Cominciamo che siamo anche per rispetto a chi è arrivato in orario, sta bello seduto da un po'. Allora, benvenuti, come da programma ci siamo divisi in quattro assemblee, diciamo numeri, siamo circa 70 in questo momento in sala e l'idea di chi ha organizzato questo sinodo era dedicare questo spazio, questo momento a declinare il ragionamento che abbiamo ascoltato insieme sulla generatività grazie anche agli stimoli che ci ha dato, oltre al professor Magatti, pure Giorgio, calandoli nel concreto, in quattro ambiti. Quindi abbiamo due testimoni, Bruna e Cecilia, adesso li presenteremo brevemente. Allora, i lavori li pensavamo in questo modo. Io e Laura alternativamente presenteremo brevemente le nostre testimoni che ci racconteranno ciascuna delle due, prima Bruna e poi Cecilia, ci racconteranno per un po' di tempo il loro punto di vista, la loro esperienza generativa e come se la ritengono generativa, come lo è stato, eccetera, eccetera. E poi, insomma, la parola a noi, nel senso ne parleremo insieme, chiunque vorrà intervenire, sempre nell'ottica della riflessione sulla generatività. Quindi non siamo qui solo a raccontarci delle esperienze, ma a fare una riflessione sulla generatività di questa esperienza e sulla prospettiva anche, quindi non guardiamo solo all'indietro, ma cerchiamo di fare un ragionamento anche prospettico di futuro. Non dimentichiamo che il punto di vista è sempre quello del Masci del 2030, cioè l'orizzonte è il Masci che vogliamo. Io darei la parola a Laura, che ci presenta Bruna. Vieni, vieni qua vicino a lei. E io poi... Oltre a quello che ha detto Matteo, per quanto riguarda gli interventi, noi dedicheremo un tempo per quanto riguarda le presentazioni e le testimonianze sia di Cecilia e di Bruna. Poi, dando la voce a voi per portarci le vostre esperienze o quello che pensate che sia opportuno attivare per quanto riguarda la generatività, vi diamo un tempo limite, in modo tale da dare la disponibilità a tutti di potersi esprimere. La cosa che vi chiediamo è di non parlare, di non ribattere ciò che l'altro dice e di non parlare sopra l'altro, perché è giusto dare il rispetto a chi interviene e alle proprie idee. Io ho il compito di presentare Bruna e nelle poche cose che dirò non sono, non la rispecchiano totalmente, perché a parlare di Bruna ci impiegheremmo quasi tutto il pomeriggio per la sua vulcanicità nelle idee, nelle imprese che compie, insomma, nella sua vita nel volontariato. Bruna Labbate inizia la sua attività di volontariato sin da piccola, sin da adolescente e questa esigenza viene dall'educazione che ha nella sua famiglia e dal vissuto del suo paese. C'è una famiglia che tende principalmente ad accogliere, a vedere nell'altro Gesù, Dio, come prossimo. Lei è sposata, vive a Reggio, è stata già magister della comunità di Reggio IV, e è stata un'insegnante che ha pensato che la sua vita era dedicata ad altro, quindi ha lasciato l'insegnamento per dedicarsi a 360 gradi al volontariato. E' responsabile, leggo qualcosa perché è difficile tenere a memoria tutto quello che fa Bruna, è responsabile per la promozione umana della Caritas e in seguito agli sbarchi che si sono succeduti a Reggio Calabria nel 2013 ha messo in moto il coordinamento di emergenza migranti dando vita a una catena solidale che ha garantito ai profughi assistenza sia al momento dello sbarco sia in seguito facendo fronte alle loro esigenze. E' successivamente nasce il centro Help Center che dà sostegno sia ai senza tetto che ai migranti o comunque a tutte le persone che hanno, che esprimevano una necessità o che con una lettura del territorio accurata facevano emergere queste necessità. L'Help Center, correggemi Bruna se sbaglio, è conosciuto anche come Casa di Lena. Successivamente, sempre in relazione agli sbarchi, nasce la Casa di Arvi, che si impegna a curare i ragazzini non accompagnati. Invece in atto abbiamo la Casa di Benedetta che si preoccupa e si preoccuperà invece dei minori con disabilità. Con disagio. Con disagio. Ok. Ora, finita, ho terminato questa mia breve presentazione e do parola a Bruna perché possa esporre la sua esperienza e la sua testimonianza. Io mi alzo perché la mia diversità altezza non mi consente di stare, non sembra che mi sono ecco, mi ascoltate, vero, non è grande la sala quindi non è difficile. Bene, io ringrazio per questa presentazione che veramente non è, cioè, non so le aspettative che avete voi, le aspettative degli altri, ma credetemi, io non sono nulla di particolare se non Bruna che ha deciso nella sua vita di lasciare anche il lavoro pur di dedicarsi a chi ha bisogno. Niente di particolare. Tutto quello che io con i tuttanti volontari che fanno servizio siamo una piccola, veramente un'infinitesima parte di goccia nell'oceano. Proprio pochissimo. Quindi, se tutto quello che avviene, che è avvenuto a Reggio Calabria e ancora avviene, è grazie ai volontari di qua, ne abbiamo un paio del Masci di Reggio Calabria, nella zona di Reggio Calabria, che hanno partecipato agli sbarchi, fanno servizio anche alcuni alla casa di Lena. Quindi, come vedete, io non faccio altro che coordinare, certamente, ne dà pure fastidio, essendo solo nella stanza dei bottoni. Non ho bottoni, però, col telefono. noi naturalmente siamo conosciuti come il coordinamento di oceano sbarchi, nato nel 2013, nel momento in cui sono arrivati i primi, nel momento in cui sono arrivati i primi sbarchi, ci siamo resi conto che erano accolti in un modo abbastanza approssimativo, diciamo, e abbiamo chiesto di fare qualcosa, presentando la lettera al vescovo, alla prefettura, per dire cosa noi potevamo fare per queste persone. La prefettura, il vescovo era perpresso, la prefettura altrettanto, in quel momento la città era commissariata, però ci hanno dato la possibilità di andare nelle strutture a portare le cose che noi avevamo, tipo gli indumenti, tipo il sacco di succo di frutta, merendie, tutte queste cose. Naturalmente noi là non siamo stati distributori di sucche, di merendine e di altre cose, ma siamo stati distributori di relazione e di amore. Abbiamo cominciato a intraprendere una relazione, pur non conoscendo la lingua, con le persone che arrivavano, che erano là nelle varie palestre. Questo col tempo ci ha consentito di farci conoscere dalla prefettura la quale ci ha chiamato a far parte del tavolo di crisi, ogni qualvolta arrivava uno sbarco. Per noi, cosa strana, straordinaria, perché non eravamo nessuno, ci eravamo dei semplici volontari seduti attorno a un tallo dove c'erano tutte le istituzioni rappresentate. E là, ci siamo comunque, parlando, conversando con loro, ci siamo accreditati la credibilità della prefettura, non solo, ma anche della questura, dei medici e di tutti quanti. hanno visto il nostro impegno che non era un impegno di fare, era un impegno che nasceva dal cuore, un impegno che nasceva dal nostro animo, non solo dalla nostra testa. Quindi abbiamo cominciato questa avventura, una bellissima avventura durata fino al 2018, fin tanto che l'amico, tra virgolette, Salvini ha deciso di chiudere tutto, E ne stiamo pagando le conseguenze ancora. Dopodiché noi non ci siamo comunque fermati nel nostro servizio. Abbiamo continuato a fare servizio a Casa di Lena, abbiamo continuato a fare la distribuzione dei pasti, e qua ci sono altre rappresentanze, che si cucinava, si portava il pasto per la città, i poveri, e Casa Anovim, che ha accolto non solo i minori, ma ha accolto prima di tutto le donne vittima di tratta. Là sono nati dei bambini, no? Per noi è stata, veramente, sono state delle emozioni che non posso, non riesco a trasmettere, perché, come si diceva, l'emozione e i valori non si possono trasmettere, bisogna viverli. Noi che l'abbiamo vissuto, vi posso dire che è veramente una cosa emozionante, ancora al ricordo. Vabbè, la faccio breve, è arrivata la pandemia. Anzi, volevo dire che a Casa Anovim è nato il primo bambino Filemon, dove con la casa di Lena il presenter abbiamo fatto la via fittizia, che a Reggio non esisteva. Due anni di travaglio col comune, finalmente ci siamo riusciti. Dare dignità alle persone con un documento è stata una cosa molto importante. Arriva la pandemia, scusate se vado un po' veloce altrimenti non riesco a raccontarvi un po' di cose. Ecco, ci si è bloccati tutti. Pandemia, tutto fermo e la questura alla polizia non ha fatto aprire la casa di Lena che si trova proprio in stazione. La casa di Lena è una stanza, Cristina la conosce bene perché con Eccomi ci hanno dato una grossa mano d'aiuto e grazie a Riccardo abbiamo fatto un bellissimo soppalco e noi gliele siamo grati che comunque viene io racconto questa storia e forse se poi la vuole raccontare Cristina rende meglio e quindi è veramente piccola, no? Però ci hanno chiuso per causa della pandemia quindi per circa due mesi siamo stati chiusi. Questo che cosa ha significato? Che la gente che usufruiva di questa struttura e veniva a raccontarci e gli davava aveva anche un ristoro e si è trovato senza nulla. Per fortuna dopo un po' di tempo siamo riusciti a riaprire le mense con tramite facendo l'asporto non certamente dando da mangiare ai tavoli e noi ci siamo bloccati. E allora in questo momento è arrivato alla mia crisi che io esprimo con una lettera. Perché? Che cosa è successo? Quando vedevamo chiedevamo al comune qualcosa per quanto riguarda la gente che stava in strada non ricevevamo alcuna risposta. E allora dice mandate le PEC e noi abbiamo cominciato a mandare le PEC ogni due giorni una PEC e qua c'è questo signore che dorme fuori quell'altro che sta male risposta zero. Nel pieno della mia crisi allora perché anche il direttivo Caritas di cui io ne faccio parte dice facciamo così perché è giusto che si faccia così io inizialmente ho obbedito perché gli scout sanno pure obbedire e per fortuna io obbedisco per poco tempo comunque e allora ho scritto questi miei pensieri al direttivo questa lettera queste due parole forse vi fanno capire chi sono effettivamente miei cari questa non è una lettera ma sono pensieri sparsi che di getto sto scrivendo dopo una notte insonne per l'ennesimo no che ho dovuto dire ad una persona che dorme in stazione in quel periodo sono morte più di 18 persone perché non avevano un tetto non avevano come riscaldarsi e come mangiare ho la necessità di manifestare il disagio che sto vivendo in questo periodo quello che sto facendo tutti no che sto dicendo non fanno parte della mia natura scusate mi sembra di tradire la carità credetemi mi sto sforzando di capire la posizione che in questo momento abbiamo preso ma essendo limitata perché sono limitata non ce la faccio questo mi fa stare male e non riesco a farmene una ragione forse dipende dall'educazione che ho ricevuto in famiglia forse perché ho incontrato dei grandi maestri i quali mi hanno insegnato che bisogna fare di tutto per aiutare chi è nel bisogno sono sempre più convinta che noi popolo di Dio dobbiamo essere i primi a fermarci davanti al popolo al povero per raccogliere la sua sofferenza asciugare le sue ferite dopo denunciamo a chi di dovere se noi facciamo il processo inverso con i nostri dinieghi rischiamo di aumentare le sofferenze del povero Cristo sapete adesso mi sento come il pubblicano o come il sacerdote che lasciarono quell'uomo ferito a terra dove è andata a finire il samanitano che è stato il riferimento della mia vita ci siamo illusi che facendo delle pecche qualcosa sarebbe cambiato assolutamente falso e questo lo sapevamo mentre ci siamo burocratizzati inviando carte le persone continuano a dormire fuori e a morire mi chiedo a chi facciamo la battaglia all'istituzione o ai poveri in questo periodo per sostenere qualche famiglia sto trovando soluzioni alternative cercando supporto con degli amici per soddisfare dei bisogni importanti la cosa grave sapete qual è non ve lo neanche detto e questa non è una cosa bella non comunicare al direttivo quello che stavo facendo servire anche un po' di spesa non significa essere distributore di pacchi ma lo so io e lo sapete bene voi quel pacco strumento utile ci permette di interagire capire i bisogni e successivamente aiutarli ad essere persone autonome come sapete spesso mi sono buttata imprese strane qualche volta all'apparenza irrisolvibile ebbene il Signore proprio nei momenti più bui mi ha sempre indicato la strada giusta quindi perché avere paura in questo periodo mi sento indigliata dentro una matassa che non mi consente di andare oltre e fare ciò che il cuore mi suggerisce sono certa che il Signore non vuole così anzi ogni giorno mi dice di andare per strada a incontrarlo sul volto di chi soffre perso la seconda parte grazie grazie sono certa che questi miei pensieri non vi hanno colto di sorpresa ultimamente ho manifestato il mio disagio non vi chiedo neppure di capirmi vedete sono interrogativi di una donna di 68 anni che desidera percorrere l'ultimo tratto di strada con la gioia nel cuore per essere accolta tra le sue braccia per questo non posso perdere la concentrazione il premio finale è troppo importante anzi vi chiedo di sostenermi con la preghiera spero che il vostro aiuto mi ricordo il vostro aiuto di ritrovare la gioia e la leggerezza che in questo momento ho perso per ritornare ad essere quell'ave operaia a servizio degli ultimi questi sono i miei pensieri scritti proprio una notte che ero alla dispera perché io accumulo accumulo poi non resisto mi metto a piangere sono disperata come se fosse è una cosa grave per me dopo questa lettera naturalmente le cose sono cambiate siamo ritornati come prima abbiamo riaperto l'episenter abbiamo ricominciato a stare accanto alle persone io ho continuato a fare il mio giro in strada per trovare le persone che stavano male con me tanti volontari noi non abbiamo smesso per tutto per tutto il periodo a uscire a portare il cibo ai nostri volontari anche se a cucinare non erano più il gruppo cucina che c'era prima le cose sono cambiate ma c'erano dei volontari più giovani che noi un pochettino anzianotti siamo stati un po' più preservati diciamo scherzo che preparavano i panini preparavano tutto quello che devono portare questo significa essere ieri mi sono presa degli appunti molto belli che sono veramente contenta di aver partecipato adulti nella fede vuol dire cambiare la propria vita ed è quello che è successo a me ma è quello che succede a tutti è quello che è successo ai tanti volontari abbiamo cambiato la nostra vita quando arrivavano gli sbarchi e arrivavano la mattina all'alba o arrivavano la notte o arrivavano il giorno di festa Natale Capodanno Ferragosto abbiamo fatto Pasqua tutte le feste le abbiamo fatte al porto noi e ne facevamo arrivavano anche due tre sbarchi a settimana con numeri importanti i primi le prime navi perché erano organizzate con Mare Nostrum arrivavano anche con milleottocento migranti no? persone quindi immaginate la fatica che c'era ma anche la voglia di stare accanto a loro di sorridere noi non abbiamo mai perso il nostro sorriso noi abbiamo sempre continuato a parlare a dialogare quando arrivavano ci inventevamo delle danze facevamo un po' delle cose un po' strane per fargli capire che stavano arrivando in una terra accogliente che non erano rifiutati come lo erano in altri posti tant'è che Henry De Luca che ha fatto uno sbarco un giorno di Pasqua ha scritto proprio sul libro l'accoglienza di Reggio Calabria di queste persone che danzavano e cantavano per coloro che arrivavano da così lontano ed era nostro vedere arrivare sta gente da lontano e vederli salutare cantavano anche loro no? quindi questo modo di accogliere è stata la cosa più bella ve lo dico ve lo possono testimoniare le persone presenti quindi cosa c'è di più bello? quando arriva una persona arrivavano da noi dentro le nostre case ed era doveroso da parte nostra accoglierli non potevamo fare a meno certo allora quando abbiamo iniziato è stato un po' faticoso eravamo la cosa importante che dicevo anche oggi con loro è che noi non ci siamo fermati a fare solamente ad essere presuntuosi a fare solamente noi avevamo capito abbiamo fatto questo coordinamento con altre associazioni perché da soli non potevamo fare quello che abbiamo fatto nel modo più assoluto erano noi avevamo siamo arrivati a 160 volontari per gli sbarchi non considerando tutta la gente che veniva gli scout e tutti i rover e le scolte che arrivavano da tutta Italia e anche dall'estero per fare questo servizio e quindi beh facciamo stare basta che piango che io sono facile al servizio ma anche al pianto quindi come praticamente la cosa importante è questa è stata la rete che abbiamo fatto e tante associazioni hanno aderito tante poi sono andate via perché il compito è stato gravoso e devo dire una cosa lo dico con orgoglio l'hanno fatta da padroni al porto gli scout qua merita l'applauso questi sono i volontari loro l'hanno fatta da padrone vedere quei ragazzi con le uniformi che venivano non parlo degli adulti perché insomma però i ragazzi che venivano che venivano a fare servizio si sente non è importante pure là mi vedevate allora va bene allora vi stavo dicendo la nostra accoglienza iniziava al molo sul molo naturalmente assieme a tutti quanti noi su quel molo abbiamo pianto sorriso gioito pregato lavato abbiamo lavato con le nostre lacrime i ragazzini che arrivavano feriti le mamme che dovevano andare a partorire inizialmente non avevamo niente non avevamo organizzato niente era proprio lo scautismo ci ha dato la possibilità di improvvisare delle cose le cose più strane non avevamo niente noi poi man mano abbiamo fatto le tende la tenda ludoteca la tenda broccia la tenda cambusa ma non avevamo nulla all'inizio quindi ci siamo inventati anche le scarpette era un inverno veramente era un autunno piovoso freddo freddo e sono arrivati tantissimi siriani voi sapete che siriani venivano con una con tanti bambini no? e a un certo punto abbiamo finito qualcuno se lo ricorda le scarpe e le calze per i bambini come facciamo sentono troppo freddo e allora sono andata alla croce rossa mi sono fatta dare le garze e alla protezione civile i guanti in lattice abbiamo foderato con la garza i piedini e con il guantino girato al contrario abbiamo fatto le scarpe quantomeno non sentivano freddo i piedi le mamme ridevano le mamme ridevano ci hanno preso per pazze però abbiamo riscaldato i piedini di quei bambini ma non solo questo veramente ci siamo inventati l'acqua lumpe abbiamo pianto quando abbiamo visto i segni delle torture abbiamo curato le ferite nel corpo e nell'anima abbiamo sorriso quando facevamo le docce ai bambini abbiamo gioito quando sono arrivati i neonati abbiamo pianto e pregato quando sono arrivati tanti cadaveri questo è stato un impegno molto importante e molto faticoso ma il nostro obiettivo era preciso il nostro obiettivo era rispondere a quella chiamata senza preconcetti non potevamo dire di no c'era chiaro che per vivere da persone vere e autentiche bisognava avere la forza di mettere da parte tutto e donarci alle persone che lui lui aveva deciso di farci incontrare non abbiamo mai smesso di servire né al porto né nelle strutture ma sempre con lo stesso amore con lo stesso entusiasmo facendo del nostro meglio qualche volta la stanchezza traperava dalla nostra dai nostri visi palle di stanchi non ci sedevamo mai eravamo dalla mattina alla sera in piedi però non ci ha mai maddonato il sorriso e la voglia di dire coraggio andiamo insieme avanti questo è quello che abbiamo fatto all'epoca le cose adesso sono cambiate tutto quello che noi abbiamo ho sentito ieri anche la nostra legge la nostra la nostra promessa no ci ha aiutato il nostro il nostro essere avere la capacità di amare gli altri la legge dice amare aspetta i fratelli no 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 sono amici e fratelli di ogni altra guida e scout io non la direi questa cosa mi dovete perdonare siamo fratelli tutti al di là tutti 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 non c'è un distinguo come non c'è un distinguo sul colore della pelle non c'è un distinguo sulla religione non c'è un distinguo sulla disabilità siamo tutti uguali io sono forse una rivoluzionaria una cosa che non vedrò mai nella mia vita ma io sono contro i confini perché la il signore ci ha dato una un mondo dove tutti abbiamo il diritto di calpestare quella terra tutti abbiamo diritto di viverci perché dobbiamo fare questa cosa obrobriosa va beh ma questo è il mio pensiero quindi adesso le cose giusto per concludere le cose sono cambiate gli sbarchi per un po' di tempo non sono arrivati da noi da 2018 sono arrivati il primo sbarco di quest'anno è arrivato due mesi fa poi sono arrivati altri due non arrivano più programmati organizzati perché il governo non ha deciso di non farla questa cosa preferisce farli morire in mare come se fossero non lo so bestie scusatemi il termine e tanti e tanti ne stanno morendo ancora noi non vediamo neppure la televisione ormai perché ci siamo assuefatti a questa cosa quindi c'è anche fastidio sentire ripetere se arrivano queste barche loro arrivano con dei barchini che arrivano sulle spiagge quando arrivano vicino a Reggio li portano a Reggio Calabria naturalmente è tutto improvvisato tutto improvvisato l'ultimo sbarco ieri sono andati via gli ultimi minori non accompagnati e il comune sprovvisto di tutto perché non diciamocelo non li voglio no non li vogliamo non li amiamo noi continuiamo a considerarli ci rubano il lavoro e ci portano le malattie non è vero se vi racconto la storia di alcune persone non hanno rubato il lavoro lo hanno portato con le strutture di accoglienza che sono state aperte e le scuole hanno aumentato anche le aule hanno assunto altro personale quindi hanno portato il lavoro non è vero che ce l'hanno levato ma questa è una cosa che sappiamo solamente in pochi perché la massa segue la televisione e segue quelle e dice le stesse cose che ripetono loro quindi noi subiamo anche in questo momento la disorganizzazione totale ci chiamano quando arriva la prefettura ci attiva per così dire e devo dire che la prefettura ci ci tiene molto in considerazione no dice per favore andate perché sanno con quale passione facciamo le cose li hanno portati in un quartiere forse qualcuno ha visto la televisione gli ultimi che sono arrivati che già con grossi problemi dove ci sono i nomadi dove c'è un ghetto dove c'è hanno portato questi migranti la naturalmente suscitando la protesta degli zingari cioè hanno fatto la protesta che non avevano neppure torto devo dire perché loro chiedevano di cacciare la spazzatura nel loro quartiere e non l'hanno fatto però nel momento in cui dovevano accogliere queste persone nella struttura hanno cacciato la spazzatura hanno pulito subito loro si sono ribellati non avevano torto hanno bloccato tutto hanno chiuso tutto risultato alcuni sono rimasti al porto la metà sono rimasti al porto l'altra metà sono rimasti bloccati ad Arghilla ma la cosa più triste sapete qual è è che sono stati abbandonati in quel quartiere non è andato nessuno gli portavano il pasto e andavano solo i volontari del coordinamento per poter distribuire la colazione la pranzo e la cena e per stare con loro per chiamare il medico c'era uno che stava male quindi come vedete l'amore va oltre a quello che è l'istituzione quando uno ha la passione dentro per fare il bene i ragazzi lo sanno sono bravissimi noi abbiamo tanti giovani che hanno continuato a fare questo servizio e che continuano ad arrivare sia all'Health Center e sia per gli sbarchi noi come volontari per aiutare i poveri che gli abbiamo fatto fare a tutti i vaccini abbiamo fatto servizio in ospedale come volontari per dare la possibilità a loro di fare i vaccini per tre mesi abbiamo dato una mano a noi in ospedale ma all'ospedale noi non l'abbiamo fatto per l'ospedale l'ospedale è quello che vuole noi lo abbiamo fatto per compilare i moduli a queste povera gente che non sanno manco scrivere e questo è quello che uno si inventa sul momento poi per dire come io posso aiutare la persona che ha un disagio vabbè vi lascio con questo interrogativo intanto e poi ne parleremo dopo di altre cose grazie scusate grazie Bruna come avete potuto sentire non avevo torto a dire che è un vulcano no ha smosso la prefettura ha smosso la Caritas ha smosso un comune che effettivamente non un'amministrazione che è un po' sorda su questo punto di vista e devo confermare una cosa effettivamente quello che diceva a un certo punto verso la fine Bruna abbiamo accusato questi migranti che ci rubano il lavoro eccetera io ho l'esperienza del mio paese che occupa uno Sprar effettivamente abbiamo si è creato una microeconomia dove chi aveva le case sfitte le ha potute affittare dando una dignità alle persone che le ospitavano dando lavoro ai molti ragazzi che con le loro con i loro studi magari sarebbero dovuti andare fuori regione invece sono rimasti in loco facendo esperienza e aiutando questi ragazzi a potersi inserire nel mondo lavorativo perché poi ci sono ci sono anche le borse lavoro che le imprese hanno avuto per dare opportunità lavorativa a far imparare a questi ragazzi un lavoro per avere una dignità anche e quindi potersi liberare da questo vincolo di migranti e disagio cioè non stare più sulle spalle dell'altro ma essere autonomi nella proprio nel proprio lavoro e nel proprio mantenimento grazie Bruna per il tuo intervento io ora passo la parola a Matteo per presentare Cecilia allora continuiamo il nostro cammino diciamo passiamo se vogliamo dal grido dei poveri al grido della terra però come ci ha detto Papa Francesco alla Dadosì tutto è connesso e riferimento alla Dadosì ovviamente è puramente voluto perché abbiamo qui Cecilia Dall'Oglio romana scout fino al midollo di famiglia scout mamma una delle prime promesse agi dopo la ripresa fratello Paolo conoscete la tragedia di padre Paolo Dall'Oglio in Siria magari poi Cecilia ci direi qualche cosa lungo curriculum scout campo di formazione a Gesci all'isola del Giglio con Massimiliano Costa capocampo quindi diciamo vari incroci con il nostro mondo a lungo in Foxiv lunga esperienza in Foxiv e poi nel 2015 viene fondato il movimento allora si chiamava Movimento Globale Cattolico per il Clima che questa è stata e ha cambiato nome in Movimento Laudato Si con l'obiettivo di inculturare uso volutamente questa espressione di sapore ignaziano di inculturare i contenuti dell'Enciclica Laudato Si nel mondo cattolico e non solo perché poi il respiro del movimento Laudato Si è veramente globale e è appunto un movimento globale in tutti i sensi è una grande rete nella quale fanno parte tante realtà organizzate e tante persone poi Cecilia ci racconterà i contenuti Cecilia è direttrice dei programmi europei dico bene del del movimento Laudato Si e beh non vediamo l'ora di ascoltarti quindi a lei la parola anche perché mi sa che mi è meglio quello dopo Bruna è difficile intervenire però mi ha aperto la strada e allora intanto grazie tantissimo per questo invito mi onora tantissimo io ero con voi a Salerno perché Riccardo mi aveva invitato per trivi quadrivi a tenere una in una chiesa mi ricordo ai tempi con Flavio Lotti un incontro e Matteo è venuto proprio a scavare già da un po' di anni prima un'intervista su strade aperte poi insomma non io che mi sento veramente ecco neanche di stare dalla vostra parte proprio e vabbè insomma va bene qui sto spero di esservi utile con qualche messaggio su questo tema di oggi della generatività però io scombino un pochino la mia scaletta e partirei da Bruna perché secondo me ha toccato proprio gli argomenti che ci interessano a cui io do una dimensione un po' diversa non è quella della Calabria è degli sbarchi intanto questa apertura e questo amore e mi viene in mente la tenda che grazie anche Antonella avete piantato lì fuori la tenda di Abramo che proprio abbiamo deciso che quest'anno era il simbolo di tempo del creato perché è l'ospitalità Abramitica è l'ospitalità di Abramo che arrivano i tre stranieri e si prostra a loro e la sua vita e quella di Sara vengono riempite di benedizione ed è il proprio il simbolo che vogliamo dare di costruire una casa per tutti una casa ospitale per tutte le creature ecco Bruna ci ha portato subito in questa dimensione come se il nostro cuore dalla Calabria dagli sparchi si dilata e abbraccia tutta la casa comune e tutto il mondo però mi colpisce di Bruna anche questa audacia che è l'altro elemento fondamentale questo movimento Laudato Si è nato nel 2015 e adesso in questa fase di cambio di nome perché il clima era solo una parte del nostro impegno è chiaro che noi abbiamo un approccio molto più ampio quindi la Laudato Si rispecchia molto di più quello che noi già facevamo e chiaramente con un'attenzione in particolare sui temi del clima e della biodiversità perché la Laudato Si tutti noi facciamo delle cose della Laudato Si e noi non è che come movimento vogliamo restringere il campo che chi è nel movimento fa la Laudato Si e chi sta fuori no ci mancherebbe la Laudato Si è dottrina sociale della Chiesa è magistero del Papa abbraccia tutti però noi ecco abbiamo poi un'attenzione in particolare sui temi del clima e della biodiversità della crisi climatica no? però perché la nostra missione che ci siamo rinnovati proprio è stata quella di ispirare e connettere è un'alleanza non è una nuova organizzazione che si si è parte del movimento Laudato Si si è animatori Laudato Si si aprono circoli Laudato Si ma all'interno di quello che ciascuno fa quindi per esempio Antonella e Matteo hanno aperto un circolo Laudato Si che si chiama Masci 6 se non sbaglio a Roma cioè è la comunità del Masci che con un piccolo form online si è registrata anche come circolo Laudato Si nel senso che riceve da noi in tutte le lingue in tutto il mondo non sono tantissimi circoli un semplice meditazione mensile cerchiamo di tenerci svegli quindi un giorno è il nostro collega in Africa un altro giorno nelle Filippine perché io sono parte di un team mondiale e questo per noi è una grandissima ricchezza io che vengo dalla Foxiv chiaramente la cooperazione internazionale il volontariato internazionale è stato sempre no? a proposito di generatività io non ho figli ma mi sento che quell'impegno in Foxiv ora nel movimento è il mio modo di essere generativa no? Quindi veramente però che cosa mancava? Ispirare mi viene Bruna ci ha ispirato no? Però è difficile certe volte ispirare all'azione alla speranza su queste tematiche perché come si spegne la tv sugli sbarchi così su tutto il resto che accade e invece noi non vogliamo lasciare da soli chi vuole ancora cambiare e sappiamo Papa Francesco ne l'ha laudato sì ce l'ha detto è possibile cambiare però c'è una condizione solo insieme anche Bruna ha parlato di rete sul territorio di collaborazione ha parlato di scout che venivano addirittura dall'estero no? Cioè questo è fondamentale allora questo e poi il tema del cantare di questa scusami se ti sfrutto ma io ti ho fatto parlare prima apposta perché così mi davi il via noi veniamo dalla spiritualità francescana la laudato sì si ispira a San Francesco e San Francesco è il cantico delle creature quindi noi non ci impegniamo perché la vita è a rischio e anche il Papa adesso con Bartolomeo per la prima volta nella storia per la giornata del creato hanno deciso di fare un messaggio congiunto gli ortodossi cattolici gli anglicani è una grande novità se lo leggete il messaggio del primo di settembre per la giornata del creato è un è un grido ed è un grido verso la la riunione che ci sarà a Glasgow la COP sul clima che si terrà adesso è un è un grido ora no? Allora pur se noi questa urgenza della crisi la sentiamo però il nostro spirito è quello della lode quello dello scautismo è quello del canto che avete fatto voi è è questo creato noi lamiamo ci sentiamo parte di questo creato e quindi ci viene proprio dall'amore dal sentirci parte e questo è molto importante questo spirito ehm e poi ecco arriviamo quindi noi iniziamo tutti i nostri rivitiri laudato sì che sono anche a distanza quindi voi considerate voi il Masci è adesso ci arriviamo però è uno delle organizzazioni più attive nel movimento laudato sì e voi dovete considerare che questa alleanza di cui voi siete parte di cui siete un tassello fondamentale di questo mosaico eh quindi in cui c'è un non è un collage che non il collage non c'è una visione no noi siamo un mosaico c'è una bellissima visione no di di casa comune eh di giardino eh abitato di tenda ospitale ehm voi dovete pensare che c'è un sito dove vi potete registrare è tutto molto leggero cioè noi non siamo una realtà che fa eh processi educativi eh come voi non siamo nello scautismo non siamo l'azione cattolica non siamo non facciamo la formazione permanente che fate voi noi abbiamo un altro carisma ispirare e connettere però anche connetterci è fondamentale perché noi dobbiamo contare alle volte noi dobbiamo avere una forza d'impatto ma è anche collegare il circolo laudatosi piccolo che cerca di vivere la laudatosi con stili di vita solidali provando dei detersivi biologici o trovandosi a pregare per i martiri dell'Amazzonia o sentendo cose successo con l'alluvione dall'altra parte del mondo gli incendi cioè rimanendo anche proprio svegli come le sentinelle no? quindi ecco considerate che tutti questi strumenti ci sono tutti abbiamo dei corsi annuali per animatori laudatosi molti di voi sono animatori laudatosi quindi poi se c'è qualche testimonianza anche qualcuno che vuole dire qualcosa che non funziona che ci aiuta a migliorare e ben venga però gli animatori laudatosi è un corso di quattro ore cioè sono quattro incontri una volta a settimana capite bene cioè chiamarla formazione sembra anche un azzardo però perché noi qual è lo scopo di questi corsi? è di raccogliere animatori che sono persone che hanno fame e sede di giustizia che fanno parte di tutte le realtà noi non li promuoviamo da soli noi li promuoviamo insieme al Masci insieme all'Azione Cattolica insieme a tante altre realtà l'Associazione Famiglie Numerose l'Ufficio Problemi Sociali della CEI che quindi manda anche gli animatori le diocesi PSL arrivano persone se qualcuno di voi ha partecipato ci si ritrova in degli zoom di mille persone che quando le persone si presentano io sono della tale regione io sono di tutte le età i giovani un po' di meno abbiamo bisogno ancora di crescere nel coinvolgimento delle e quindi però si fa questa formazione per ispirarci per connetterci poi ognuno come un innesto è nella propria realtà dove già è impegnato che è di stimolo che è di lievito che è generativo allora arriviamo un attimino al grido perché il grido di Bruna adesso parlava anche dei siriani che sbarcavano allora il grido delle persone che non hanno lavoro le persone che adesso sono in cassa integrazione il futuro che stiamo togliendo dai giovani io penso che ciascuno di voi siamo abbastanza grandi quindi l'undici settembre di venti anni fa forse tutti voi sapete dove eravate no? vi ricordate? allora io ho tirato fuori un articolo perché poi la provvidenza non lo so c'è un casino a casa delle carte però sono riuscita a ripescarlo un articolo di mercoledì undici settembre del duemila e due quindi l'anno dopo le torri Giavelle sul popolo scritto da mio fratello Paolo e oggi l'ho letto con una fame proprio di sentire ma cosa mi dici? e sinceramente secondo me andava proprio bene in coerente con quello che ci ha detto anche il professor Magatti cioè questo grido no? è un grido che è collegato tutto è connesso ci dice la laudato sì e dietro a questo grido c'è un'economia che uccide e Papa Francesco l'ha detto Magatti l'ha detto prima Papa Francesco è l'unico che lo dice così no ma figurati Greta noi siamo per sostenere i Friday for Future di Greta noi uno delle noi ecco guarda il non voglio dire che col fatto che c'è solo Papa Francesco voglio però dire che una crisi della politica c'è poi concordo insomma che ci sia questa questa crisi e da da che cosa adesso vorrei un attimino così solo chiudere gli occhi però abbiamo avuto vent'anni fa le torri gemelle e eh adesso abbiamo l'immagine dell'Afghanistan dove ieri eh ho visto solo un momento di un filmato della Mazzocchi su propaganda live e c'erano gli obiettivi di sviluppo tranquilli 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 allora scusate ieri a propaganda live io non sono riuscita a vederlo però c'era un servizio di questa giornalista Malla Mazzocchi no? dall'Afghanistan e a un certo punto si vede proprio sulla parete gli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui voi siete impegnati c'era un murale enorme in Afghanistan e poi c'era il muro dove cercavano di saltare nell'aeroporto cioè allora l'articolo di mio fratello è molto lungo molto complesso lui parla dalla par lui non è andato in Siria ad imparare l'arabo lui è un gesuita che è partito per farsi arabo come ha detto a mia madre e quindi lui parla da arabo e quindi lui un anno dopo le torri gemelle fa un'analisi che è sua che io non posso ripetere non sono un'esperta però quello che si capisce è anche che c'è una grande commissione del male e quindi dei servizi segreti di tutte le forze del male io penso che se tutto è connesso nel bene ma anche il male proprio si connette allora anche lui fa riferimento dice speriamo che queste torri gemelle servino a cambiare il modo con cui noi viviamo il bene comune mondiale perché se noi anche parte dell'Occidente andiamo negli altri paesi soltanto perché no dobbiamo fondare i nostri feudi delle nostre multinazionali se il capitalismo è l'unica cosa che impera ecco allora noi abbiamo visto come ci ha detto il professor Magatti la crisi finanziaria la crisi del covid venendo col vostro autista gentilissimo oggi che mi ha accompagnato e mi ha raccontato di Tarquinio che ha parlato ieri e diceva le varianti no? io dico le varianti forse sono l'unica cosa che ci salverà per non ricadere di nuovo in un modello capitalista ed egoista perché se noi ci preoccupiamo di vaccinare solo i paesi ricchi e non ci non ci preoccupiamo di togliere i brevetti dalle dalle case farmaceutiche e cerchiamo un bene comune di tutti gli uomini di tutti noi ci questa cosa ormai ci si riversa contro e io penso che questa è anche l'unica cosa che ci farà veramente un po' a cambiare perché finché noi comunque abbiamo cosa mangiare cosa vestirci noi ci continuiamo a proseguire allora adesso non so quanto ho parlato quanto manca allora quindi anche mio fratello evidenziava che la guerra è contro questo tipo di finanza che metta in scacco la politica che anzi sono tutti quei giochi torbidi che noi cittadini che andiamo a votare che paghiamo le tasse non ne sappiamo neanche nulla no? però fa effetto pensare che insomma i talebani erano armati dagli Stati Uniti o tante altre cose a proposito di questo senso di abbandono che lei esprimeva certo per me è l'abbandono della Siria cioè io non solo ho un fratello scomparso ma è un fratello che fa che sta condividendo la sorte dei nostri fratelli e sorelle siriani che sono totalmente abbandonati nessuno parla più di Siria il Libano è in una situazione quasi più drammatica della Siria adesso tra crisi finanziarie all'esplosione che c'è stata la corruzione e la diplomazia vaticana cioè qui quando si dice Papa Francesco si intende proprio anche una serie di di no? quello che sta facendo Greta per esempio sta facendo tantissimo sulla parte del clima però a livello di segreteria di Stato io vi invito tutti i giorni a pregare per Gallanger che è il ministro degli esseri del Vaticano per Parolin a me mi viene da pensare no? per esempio si era letto che il cardinal Parolin quando è stato nominato segretario di Stato è stato fuori un periodo non so se prima di accettare la nomina perché gli avevano trovato una malattia no? allora io penso che queste persone si stanno penso a Ruffini che è il primo laico prefetto di un dicastero per la comunicazione cioè è a capo di Bruni che è il portavoce del Papa è come se fosse a capo di Padre Lombardi penso a Alessandra Smerilli Salesiana economista che adesso è la segretaria del dicastero per lo sviluppo integrale abituiamoci a pregare per loro perché quello che loro stanno facendo loro vogliono un Libano che abbia per esempio un arbitrato che sia una sorta di zona proprio con un particolare statuto internazionale pensiamo alla fratelli tutti cioè sono passi fondamentali allora noi che ci entriamo perché adesso devo fare questa cosa di no perché il grido è questo il grido è dello scout che ho sentito parlare in parrocchia che io non conoscevo che si è avvicinato e mi ha detto io vengo dalla Siria sono venuto col corridoio umanitario e con il mio gruppo scout andavo sempre al monastero di tuo fratello cioè quelli che accoglie Bruna sono i nostri fratelli anche scout cioè noi stiamo abbandonando intere popolazioni l'Afghanistan il Medio perché ormai no non interessa più a questo capitalismo quindi noi che cosa possiamo fare allora il movimento laudato si vi dicevo cerca di ispirare e anche connettere allora voi avete sostenuto il presidente si è preoccupato di darvi anche dei materiali stampati questa petizione pianeta sano persone sane non possiamo vivere sani in un mondo malato ce l'ha detto Papa Francesco e questa questo che ora stiamo vivendo ora io lo paragono al momento della resistenza cioè se noi non ci liberiamo da questo sistema capitalista se non se in questo momento noi usciamo peggiori è la fine i nostri figli giovani richiedono da noi un cambiamento il Vaticano l'ha riscritto negli orientamenti pastorali sugli sfollati climatici guardate quello che stiamo vedendo adesso in termini di profughi e che sta mettendo a repentaglio la democrazia in Europa perché stiamo cedendo i nazionalismi si stanno sviluppando perché la paura fa novanta allora in confronto a quello che sarà nei prossimi anni sta scritto in un documento del Vaticano andatelo a vedere orientamenti pastorali sugli sfollati climatici quello che sarà in termini di sfollati climatici di persone che scapperanno da paesi che ormai sono sotto il mare o dove la salinazione dei fiumi è impossibile perché il mare è entrato la desertificazione per cui da una siccità già gravissima momentanea voi tutti avete esempi cioè io adesso non vi sto facendo gli esempi sulla crisi climatica penso che tutti voi venite da zone che sono state colpite in qualche modo dalla siccità o dagli incendi o dalla dai fuochi dall'inquinamento ognuno di noi c'è il suo quindi però l'emergenza sarà talmente forte quindi il ruolo dell'Europa per esempio è fondamentale noi come cittadini europei allora di fatto io voglio dire questa cosa sul Masci noi siamo un movimento è un movimento fatto da più di settecento organizzazioni io internamente ve lo confesso perché con voi sono tra amici faccio fatica certe volte perché il tipo di modalità che abbiamo è un po' quella che diceva Bruna arrivavamo lì non sapevamo abbiamo improvvisato cioè la casa è in fiamme e noi ci muoviamo quindi a voi vi arrivano delle mail il giorno prima il povero vostro presidente sono due mesi che mi chiede mandami le cose noi siamo molto abituati a parlare a degli individui che si attivano non a delle strutture intermedie di secondo livello delle organizzazioni come la vostra che deve avere il tempo di moltiplicare perché voi dovete arrivare ai vostri gruppi e tutta questa cosa però per me è fondamentale però io vi voglio dire che il Masci c'è cioè voi siete ma da sempre già da quando stavo in Foxy ma ne ho avuto il riscontro quest'anno sono mesi che con voi facciamo un cammino abbiamo fatto un webinar insieme organizzato dal vostro gruppo sull'ambiente avete avuto informazioni sulle riviste voi ci siete questo è fondamentale perché voi siete un'organizzazione capillare sui territori quindi lavorate nel locale nel piccolo ma nello stesso tempo avete la capacità politica di connettervi ma scusate questo fa la differenza questa è la laudatosi quindi poi adesso andrete nei vostri territori moltiplicherete la raccolta di firme della petizione cercheremo che il Papa che ormai non so se è ufficiale o meno ma dovrebbe andare a Glasgow perché vuole alzare veramente la voce perché è ora il momento noi possiamo dirgli a Papa Francesco non sei da solo siamo centinaia di cattolici nel mondo e quella petizione se non cambierà Glasgow avrà cambiato tutte le persone che incontrerete in parrocchia che gli direte che deve firmare perché gli farà capire che come cittadini noi dobbiamo spingere ora perché le cose cambino perché gli stati in questa conferenza dovranno assumere delle decisioni coerenti con gli accordi di Parigi se non facciamo delle politiche coerenti non cambiamo rotta e io vi dico che questo tema del clima io vengo da militanza Fox io vengo dal grido dai poveri intanto è connesso al cento per cento ma è anche una grande opportunità per mettere in crisi a questo questo sistema capitalistico perché il capitalismo unisce tutti cioè la Cina e la Russia non c'è sono delle dittature ma sono capitalistiche hanno preso il peggio che c'era e l'hanno unito allora questo capitalismo la Cina non invade la Cina fa le strade però arriva e fa questo stesso di dinamica poi dopo bisognerà vedere che tipo di conto porta noi siamo impegnati in Africa per esempio contro un oleodotto che sta passando i miei colleghi c'è stato un martire giovane una donna in Kenya che è stata ammazzata perché sta cioè noi abbiamo persone che muoiono negli altri paesi del mondo perché lottano su questi temi noi ancora in Italia no ma non dobbiamo perdere questa audacia noi dobbiamo attivarci far conoscere queste tematiche raccogliere le firme vivere tempo del creato no con la stessa audacia di chi scende in piazza e rischia di essere arrestato noi grazie a Dio questo non ce l'abbiamo ma non perdiamo però l'audacia di cambiare non perdiamo l'audacia di Bruna questo ce lo dobbiamo avere voi avete una grandissima quindi Masci fra dieci anni avete questo ruolo fondamentale e io vi ringrazio perché voi ce l'avete questa consapevolezza e mi aiuta mi aiuta perché se no succede come con la politica che a un certo punto è arrivato il populismo perché i corpi intermedi i partiti non hanno funzionato più io non lo voglio questo io voglio che le associazioni siano come voi dei corpi intermedi che funzionano quindi io su questo ci sarebbe forse anche tanto altro da dire però penso ecco l'altro aspetto comunque molto importante è quello spirituale Magatti ci ha chiuso l'intervento sulla fede la spiritualità scout e la spiritualità nel creato poi eventualmente ci torniamo su questo però veramente abbiamo bisogno che voi ci aiutate a far vivere questa spiritualità che è nel creato a tutta la chiesa io l'ho detto anche Ina Gesci lo dico a tutti gli scout ogni volta che li vedo non dobbiamo aspettare il parroco che arriva e dice agli scout questa almeno una domenica al mese per favore state in parrocchia ma noi dobbiamo andare dal parroco e dire almeno una volta al mese tutta la parrocchia viene in uscita con noi perché la parrocchia i parrocchiani i ragazzi hanno bisogno di quella che è la nostra spiritualità quindi questo è l'altro aspetto di farvi carico della chiesa tempo del creato è il tempo non sapevo che il tempo del creato se ho capito bene Magatti è fondamentalmente quello strumento di transizione io credo sia più o meno il ciuccio quando ti stacchi dalla mamma l'orzacchiotto che ha detto Magatti è bisogno quindi tempo del creato è quell'evento che ci permette di diventare generativi a noi non interessa l'evento in sé fatto da una persona che fa la tenda e dice abbiamo fatto l'evento no deve essere uno strumento no che ci fa essere generativi quindi voi dovete cercare di fare squadra di riuscire andare nelle vostre realtà e unire gli altri perché questa inversione di rotta la possiamo fare solo insieme grazie grazie a Cecilia e a Bruna ovviamente diciamo la testimonianza si è trasformata quasi in un appello no cioè questa generatività questa connessione questo invito ad uscire da noi e proiettarci verso qualcos'altro adesso il tema era la petizione il tempo del creato ma si può allargare questo discorso a tutto quello che facciamo allora secondo il programma che ci ha dato prima Laura sono aperti gli interventi passerei ecco allora Enrico magari avvicino lì il microfono e poi magari agli altri chiederei magari di parlare da qui sì sì adesso prendo man mano prendiamo gli interventi e chiederei appunto di restare sul tema cioè sul tema della generatività e chiaramente all'inizio del vostro intervento sentite il vostro nome e la comunità così possiamo registrare abbiamo anche un'idea diciamo delle comunità e delle persone che intervengono mi avvicino ad Enrico a cui diamo per primo la parola se vuoi parla anche seduto ok sono Enrico Capo comunità Roma 12 brevissima premessa se non sbaglio Bruna o un altro dalla sua comunità fu invitata da noi una volta a illustrare in parrocchia un vecchio film il cammino della speranza con il quale noi volevamo mobilitare l'opinione pubblica parrocchiale sui problemi dell'immigrazione clandestina eri te? sarà stata un'altra mentre invece io per lunghi anni ho lavorato con una persona fantastica l'avvocato Cesare Dall'Oglio che è l'augusto padre della nostra Sicilia chiusa questa parentesi alla prima servizio contributi agricoli unificati e poi la col diretti riprendo il discorso quello che io ho notato e che mi ha fatto molto piacere sentirlo è che in questi due interventi non c'era soltanto la passione che è necessaria ma c'era la razionalità cioè è quello il processo che ha vissuto negli ultimi cinquant'anni il Masci dalla spontaneità dal buon cuore dal buonismo dall'assistenzialismo all'assistenza nei primissimi tempi del Masci si facevano opere di bene si è cominciato man mano a capire che non basta abbracciare un un immigrato che sbarca a Taranto non basta dargli vitto e alloggio ma bisogna programmargli nei limiti del possibile il suo futuro che parte dall'alloggio che arriva al lavoro e che parta poi non all'integrazione né all'assimilazione ma a una forma di scambio tra la cultura dell'immigrato che dà al paese alcune sue caratteristiche quelle positive cominciando dal cibo kebab per esempio e riceve non la cultura mafiosa ma riceve il buono che c'è della nostra cultura queste cose qui io le ho messe per iscritto in questo libro dalla culla alla tomba il sottotitolo è educazione permanente e personalismo comunitario dalla teoria alla sperimentazione e che considera due tipi di persone gli assistenti sociali e la la mia categoria professionale io sono assistente sociale specialista una giovane collega mi diceva non c'è molta differenza tra lo scautismo degli adulti e il servizio sociale infatti ci sono molte cose in comune per chi lo volesse affrontare questo libro si può avere gratis in edizione ebook e sarà presentato all'università l'umsa di roma mercoledì 22 settembre alle ore 15 complementare a questo libro c'è un altro di un un altro della nostra comunità roma 12 faville di educazione permanente faville non è il nome di una ragazza che si chiama favilla ma sono delle le faville che spuntano per aria improvvisamente da un fuoco da campo ed è un'applicazione pratica soprattutto ad uso di ogni singolo magister delle caratteristiche dell'educazione permanente ecco questo era il mio commento grazie grazie se vogliamo eh andare in piedi io la tacco eh se vuoi ah ora ok Grazie. 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 No, però così ci vediamo in faccia, cioè dai le spalle solo a me, solo a noi però. Allora, proverò a essere breve, non so se ci riesco. Comunque. Mi chiamo Serena, comunità Masci, Meleniano 2, area 4 della Lombardia. Intanto spero di riuscire ad arrivare in fondo al mio intervento senza commuovermi, perché ho pianto mentre parlava Bruna. Scusate, e ho ripianto quando ho parlato Cecilia. E trovo che sia stato un grandissimo colpo di genio farvi parlare insieme, perché parliamo di giustizia climatica. Parliamo di un mondo sfruttato da una piccola percentuale di ricchissimi sulla pelle dei poverissimi. E quindi, non so se è stato lo spirito, ma è stata un'ispirazione fantastica. Vi faccio due appelli sulla generatività. La generatività comporta che siamo genitori non solo dei figli che abbiamo messo al mondo, ma anche di tutti i giovani. Aggiungo che il problema del clima non è un problema solo dei giovani, è un problema che ci riguarda tutti, e non ci riguarda fra vent'anni o trenta, ci riguarda fra cinque minuti. Non voglio ripetere tutte le notizie di cronaca che si sono verificate quest'estate. Vi ricordo solo, 50 gradi in Siberia, un incendio con un fronte di 2000 km in Siberia, 50 gradi in Canada con 200 morti per colpi di calore, l'Amazzonia ormai lo sapete, l'alluvione in Germania, eccetera, eccetera. Ma ce ne sono tante, perché mica ce le raccontano tutte. Quindi non è un problema di fra trent'anni, è un problema di adesso. Quindi la generatività significa che pensiamo al futuro dei nostri giovani, e pensiamo però piuttosto in fretta. Io quindi mi approfitto di questo microfono per invitarvi a scendere in piazza il 24 settembre per lo sciopero globale per il clima. Quelli sono tutti i vostri figli, i vostri nipoti, le vostre piccole vicine di casa, i vostri studenti, andate in piazza. Se non ci volete andare con i cartelli verdi di Fridays for Future, uscite, preparate un cartello, il Masci è con i giovani che difendono l'ambiente. Perché non stiamo difendendo l'ambiente. Una cosa molto importante del marketing sul clima, che è stato fatto malissimo negli ultimi anni, e che si continua a dire che il pianeta è in pericolo. Signore, ho una notizia, non è il pianeta che è in pericolo, siamo noi che siamo in pericolo. Ok? E questa è la prima cosa. La seconda cosa è questa. Papa Francesco mi ha commosso, io ho provato a diventare un animatore, l'adotto sì, ma sono molto impegnata nel movimento, non riuscivo mai, ce n'avevo sempre un'altra, quindi magari prima o poi mi ci infilo, ma perché sono molto interessata. Papa Francesco ha detto in un intervento, un articolo che ho trovato, non mi ricordo dove, diceva, io una volta non capivo niente, non sapevo niente. Ho dovuto, sono andato, ho sentito parlare per la prima volta di crisi climatica in Amazzonia da qualche parte. Allora ho raccolto, prima un gruppo di scienziati, e mi sono fatto spiegare bene che cosa stava succedendo. Ed erano tutti d'accordo che eravamo messi malissimo. Poi ho preso un gruppo di vescovi, e gli ho detto, scrivetemi per favore questa cosa, seguendo questo e questo principio. Ed è arrivato il discorso della casa comune, della giustizia, del fatto che tutto è interconnesso. Io questo Papa lo adoro, e quando lui dice ogni domenica non dimenticatevi di pregare per me, lo facciamo sempre in casa, ci alziamo in piedi e diciamo un Ave Maria per lui. Fatelo anche voi, per favore. Terza cosa, piccola bacchettata, vi chiedo scusa, poi dopo mi sto zitta. Il Masci, secondo me, ha ancora un pezzettino di strada da fare. Non ero certa se scrivo una lettera dopo o dirvelo adesso, però ve lo dico, in spirito di correzione fraterna, facciamo così. 500 cartelline di plastica. Ok? Un sacco di giargiatole inutili, chiedo scusa, dentro le cartelline di plastica, bastavano la penna e la carta. E la spilletta, per ricordo, perché a noi piace a tutti attaccarci la spillettina, la proposta, indipendentemente dalle scelte alimentari che uno fa a casa sua, la proposta di due giorni di menù vegetariano. Ci vogliono 15.500 litri d'acqua per produrre un chilo e mezzo di carne. È scritto nella nostra rivista, avete visto che c'è quello che raccoglie tutti gli interventi sulla sostenibilità, in quanti l'avete letto? Ok? 15.500 litri d'acqua per produrre un chilo e mezzo di carne. Provate, se avete tempo, siete più bravi di me in matematica, a farvi un conticino della carne che è stata consumata per dare da mangiare carne a tutte le persone qui presenti. E questo, ripeto, non importa se poi uno torna a casa per motivi suoi e decide di continuare con il proprio stile di vita. Noi, come Masci, dobbiamo essere un seme, dobbiamo dare un messaggio, perché chi non ci ha mai pensato, ci pensa, dice, cazzo, mi hanno fatto mangiare solo vegetariano o meglio vegano per due giorni. Io poi farò quello che voglio in coscienza, ma intanto abbiamo obbligato qualcuno a riflettere. Io, Cecilia, ti ringrazio infinitamente e sono contenta di divertire sui persone perché so che sostieni i ragazzi e quindi il mio grazie e grazie anche a te, Bruna. Ho finito. La chiettata di Serena è assolutamente da accogliere, ovviamente, nel senso è un processo, però noi dobbiamo essere alla testa di questo processo, non seguire. Quindi, assolutamente d'accordo. Renzo, Foligno 2. Mi è venuta in mente una cosa, io penso che qui dentro è inutile parlare dell'argomento del giorno, perché se stiamo qui tutti, chi più e chi meno, fanno volontariato, se no, veramente stiamo perdendo tempo. Vorrei prendere questo problema da un altro punto di vista che mi ha ispirato a mia figlia. Io ho una figlia che sono 12 anni circa, transita fra il Marocco e la Tunisia e fa la cooperatrice per conto di una ONG. E lei mi ha detto una cosa? Intanto io sono preoccupato, tanto preoccupato, perché faccio il papà e... Sì, però non potete soffrire. Sì, 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 sì. Però io ho sempre detto che è vero che io come papà penso con questo, però poi ho la fortuna di pensare con quest'altro e mia figlia è libera. Però mi ha stimolato un pensiero. Lei mi ha detto papà, con questo bonismo che circola di fare carità a chi arriva, di fare... Perché non giriamo il problema? Io sono andato a lavorare, prendo uno stipendio, cioè non faccio la cooperante a tempo pieno e senza eh guadagno. Io lavoro per una ONG, però lavoro lì. Io lì, adesso, una dei tanti progetti, si sta occupando di settantacinque microimprese per i giovani. Che nell'idea è farli stare lì, poi nei fatti sono settantacinque giovani contro cinquantamila che stanno aspettando in fila coi barcone. Però è un'idea eh di essere insieme a loro, non da aspettarli qui, di essere partecipi di di una di una famiglia diversa. cioè lei ha amici, persone che collaborano con lei, che sono tunisini, come prima erano del del Marocco. Ed è un punto di vista alternativo. Facciamo tutto quello che è possibile quando arrivano qui, ma cominciamo a pensare seriamente a fare le cose dall'altra parte. Questo è tutto. Grazie Renzo. Al di là della retorica veloce dell'aiutiamoli a casa loro che è un po' uno slogan, però non ci dimentichiamo che nessuno migra per piacere. Quello si chiama turismo. Se qualcuno migra è perché c'è un bisogno, c'è una sofferenza e nessuno lo fa volentieri, no? Sì, esatto, dico, ma non è mai una scelta, altrimenti è turismo, è un'altra cosa. Mi chiamo Paola Nasti, sono magister della comunità RC4, cioè la comunità di Bruna, di cui fa parte Bruna e di cui lei era precedentemente magister e sono un operatore laudato, sì, un animatore laudato, sì, anche se non ho concluso nel senso che io ho fatto il corso durante il lockdown e c'era da fare l'evento per concludere e io non ho fatto l'evento, eravamo in lockdown quindi non potevo fare eventi. Però ora stiamo invece organizzando la tenda di Abramo a Reggio, la zona di Reggio perché sono anche responsabile di zona. stiamo organizzando appunto la tenda di Abramo insieme al circo laudato sì che è stato aperto da Rossella Vandolfino ad Arghilla. Ok, e quindi stiamo facendo questo, stiamo organizzando questo evento che avrà come diciamo tematica fratello Fuoco e sorella Acqua dato che come forse qualcuno saprà quest'estate gli incendi l'hanno fatto da padrona in Calabria in Aspromonte sono stati distrutti decine di ettari di bosco e di Aspromonte e quindi partendo da questo abbiamo proposto questo tema del fuoco e dell'acqua quindi stiamo organizzando e quindi c'è già questa rete tra associazioni tra Masci tra tutte le comunità Masci e appunto il circolo laudato sì e niente quindi lo volevo comunicare come esperienza che stiamo che stiamo realizzando che stiamo portando avanti e volevo però dire questo che sicuramente il a proposito dell'ecologia perché poi parliamo di ecologia io parto da ecologista io sono le gambientine da sempre faccio parte del direttivo di lega ambiente tutte le associazioni ambientaliste a Reggio ci sono state tante battaglie no carbone il referendum per le tribelle no per il no alle tribelle e così via e poi dall'ambientalismo fino a se stesso sono arrivata al Masci e però nel Masci io sono quella tra virgolette fissata con l'ambiente insomma quindi e diciamo che ora ho avuto finalmente la spalla di Papa Francesco perché Papa Francesco con la sua ecologia integrale ci ha fatto capire che l'ecologia non è un discorso che si fa così quattro fissati che facciamo questa cosa facciamo no è un discorso molto più complesso molto più ampio in cui ognuno di noi deve essere presente partecipe con le piccole cose la cartelletta l'abbiamo già segnalata e quindi ognuno di noi deve appunto essere partecipe nel suo piccolo nel suo quotidiano chiudere l'acqua fare tutte queste cose che sembrano scontate ma non lo sono poi così tanto è molto importante che Papa Francesco ha permesso che persone che erano al di fuori di questa logica di queste logiche ambientaliste invece ora si ritrovano a far parte di questo percorso noi come comunità abbiamo anche seguito un po' questo percorso nel nostro campo estivo sempre io amo Papa Francesco lo confesso e anche se il laudato sì è stato importantissimo non è altrettanto non è da meno il Querida Mazzonia perché il Querida Mazzonia riprende le stesse tematiche di questo collegamento e quindi quest'estate noi abbiamo il nostro campo è stato proprio si è chiamato Querida Calabria e abbiamo immaginato abbiamo fatto i nostri sogni nella Querida Mazzonia appunto Papa Francesco parla del sogno ecologico ma non solo del sogno sociale del sogno ecclesiale e del sogno quale ho saltato vabbè ne ho saltato e culturale ok e quindi noi li abbiamo sviluppati questi quattro sogni però legati alla terra alla Calabria con i nostri con quello che c'è che c'era nel passato e con quello che noi vorremmo appunto nel futuro immaginiamo per il nostro futuro e niente quindi diciamo che stiamo cercando di lavorare proprio in questa in questa direzione di integrare tutti quanti diversi aspetti di far sì che l'ecologia non sia più considerata come un'utopia come qualcosa che non sia al di fuori della nostra quotidianità che invece faccia veramente parte di noi in ogni momento della nostra vita grazie Paola allora abbiamo poi abbiamo un po' di sì ok sì c'è anche allora se ti vuole abbiamo tempo cosa rara nei nostri eventi quindi godiamo abbiamo deciso di dare tanto tempo al dibattito voglio perché in passato avevamo trovato occasioni molto strozzate teniamo d'occhio l'obiettivo che è quello di ragionare sul futuro molte cose belle facciamo stiamo facendo anche il profuto però ragioniamo anche su grazie vai infatti volevo tornare sulla generatività sono Franco Igne di Magistra di Sacile Sacile vicino Pordenone per chi non conosce ognuno di noi bellissime le relazioni di Bruna e Cecilia ognuno di noi nelle nostre comunità fa probabilmente ha fatto del servizio del volontariato però il tema di oggi era proprio cosa porta a questo cioè la generatività che parte da questo e il Masci un po' del futuro e volevo mi erano venute in mente due riflessioni anche sentendo sentendo gli interventi mi sembra che noi siamo diventati bravi come Masci e questo diamo merito anche a chi ha lavorato in questi ultimi anni a essere molto generativi nel fare rete siamo riusciti a fare questo rispetto a una volta e questo è molto bello abbiamo sentito prima nelle loro relazioni e quello che probabilmente facciamo noi nelle nostre comunità l'osservazione che volevo fare era invece e questa presuperrebbe io non ho le capacità ma abbiamo sentito molti interventi anche oggi non riusciamo essere generativi non so come oltre a far rete nel cambiare poi la politica non so nel fare poi incidere sulle leggi non siamo ancora capaci di essere generativi nello stimolare quello che noi facciamo come servizio come volontariato a che porti un cambiamento l'ha detto bene Bruna prima perché se tutto quello che noi facciamo poi porta lei ha fatto la battuta ai decreti Salvini di Salvini probabilmente la nostra generatività non ha portato a qualcosa che poi doveva cambiare quindi penso che uno dei compiti visto che stiamo lavorando e stiamo ragionando anche sul Masci dei prossimi dieci anni è proprio di poter incidere questo probabilmente forse non è neanche colpa nostra probabilmente è colpa di quello che è diventata la politica i partiti abbiamo sentito questi giorni le relazioni non hanno più prospettiva non ragionano più sul futuro e mi ricordo che forse una delle ultime leggi su cui anche noi come servizio come volontariato abbiamo potuto incidere è stata magari la legge quella del dopo di noi mi veniva in mente adesso però come siamo riusciti a incidere su questa su molto altro non riusciamo a incidere forse colpa come si diceva anche dei partiti che lavorano sull'immediato c'è un'elezione ogni non so tra tre mesi ancora un po' in Italia per cui lavorano su quell'elezione su quello che bisogna fare per fare i voti per avere i voti su quell'elezione ma un progetto un futuro cioè qualcosa ecco compito forse del Masci generativo come il titolo bellissimo di questo pomeriggio è quello forse di incidere nei prossimi anni non so se dovremmo forse riprendere in mano noi anche i partiti ma noi possiamo far tutto insomma come Masci a un certo punto stimoleremo ma compito dei prossimi dieci anni è anche questo grazie grazie Franco e allora avevamo Anna poi sì sì anche prossimo dopo ancora Franco Anna poi poi allora Anna Volpe Roma dodici dunque io sono veramente mi ritengo fortunata oggi di stare qui aver rivisto Bruna che è venuta non solo in comunità Enrico ma anche la bottega internazionale due anni fa i tuoi interventi ormai sono una cosa veramente eccezionale per me perché sono vita vissuta vita vera e il lavoro quello che tu dici ma insomma è eccezionale eccezionale lasciatelo dire volevo però fare un complimento a Cecilia a Cecilia perché noi ci siamo visti online varie volte io sono animatore della Laudato sì e devo dire che questo corso veramente mi ha dato moltissimo è vero che l'impegno sembra poco ma ti cambia la vita ecco a proposito del generativo veramente perché capisci che dietro c'è un lavoro enorme loro lavorano moltissimo io ce li sono entrata perché faccio da collegamento tra Ecomi e Foxiv e quindi ho avuto la fortuna di captare immediatamente in Foxiv questa opportunità e penso di portare questo discorso in comunità perché veramente ho visto che è eccezionale ma fatto molto bene proprio e questo che mi ha colpito proprio organizzato benissimo veramente e a proposito quindi del tema di oggi volevo dire che questo che sto dicendo è molto importante perché noi lo sappiamo siamo un movimento nazionale ma che ha anche collegamenti mondiali e per cui possiamo veramente essere generativi in tal senso lunedì inizia il corso cui mi sono iscritta di ecologia integrale e che quindi anche questi sono sei lunedì di un'ora e mezza luna e mi aspetto in effetti già l'ho vissuto un lavoro veramente fatto molto bene e che possiamo portare nelle nostre comunità e le comunità nella nostra vita nella nostra società in modo tale che appunto non ci troveremo più in situazioni ma che cosa abbiamo creato no cominciamo a creare sul serio proprio perché ci impegniamo in questo momento in un lavoro che è necessario e importante non perché sia il futuro perché l'oggi grazie allora innanzitutto grazie perché è una realtà che io non conoscevo e sto scoprendo quindi bellissimo penso voluto mi sono soffermato su due parole che per me sono state illuminanti ah scusate Angiolino faccio parte della segreteria della Lombardia Castangofredo il paesello di provenienza una giovane comunità 6-7 anni di vita la prima la prima riflessione è la differenza tra essere riproduttivi e essere generativi questo qua secondo me è il punto cruciale perché l'essere riproduttivi implica un voler gestire cioè la preoccupazione del volere ottenere il frutto di un qualche cosa che non dipende da me e qui mi riallaccio al fatto che tante volte i tempi di Dio non sono i nostri tempi e questo ci mette in crisi cioè se non riesco ad essere riproduttivo vado in crisi credo che come futuro dobbiamo toglierci di dosso questa preoccupazione non essere generativi cioè partire dal principio che una cosa funziona se sta in piedi senza di me se io devo continuare a puntellare a essere lì e dargli calci nel sedere per andare avanti vuol dire che la cosa non funziona quindi il principio è non essere riproduttivi ma essere generativi noi saremo generativi nel momento in cui riusciremo e le generazioni che ci stanno seguendo sono generazioni che non vogliono essere riprodotti non vogliono essere dei prodotti nostri o delle fotocopie e a questo si ribellano hanno bisogno invece di un aiuto io lo chiamo profetico e questa è l'altra riflessione che vorrei fare lo sono insegnato perché credo che sia importante la mia generazione la nostra generazione dovrebbe riappropriarsi della capacità di sognare il covid ha invece evidenziato un'estrema paura del futuro e questa paura la stiamo trasmettendo in modo importante a chi c'è dopo di noi ai miei figli ho cercato con i miei figli durante il covid di dire questo è un tempo importante non può essere un tempo perso è un tempo che la storia ci insegna che deve essere significativo io devo attraversare questo tempo in modo significativo mi deve dire qualche cosa non c'è non c'è nascita senza morte cioè non c'è come dire un raggiungimento senza fatica e questo credo che sia un messaggio importante quindi essere sognatore preoccuparsi più della visione che del fare essere il profeta alla fine ci insegnano le sacre scritture che il profeta è come un che è profondamente radicato nel suo tempo vive profondamente nel suo tempo senza esserne schiavo del proprio tempo e facendo memoria della sua storia legge il proprio tempo e riesce a dare visione sul futuro credo che sia sia il punto centrale di cui credo che il Mashi sia la propria vocazione perché abbiamo la memoria di un qualche cosa che è vissuto non possiamo dire che la pandemia è peggio della guerra cioè mio padre ha fatto la guerra non posso dire che oggi quello che succede è peggio non posso dire che oggi stiamo male guardando la Siria guardando il libro cioè dobbiamo essere anche persone che a un certo punto non possono essere obiettive ci sono dei problemi vanno affrontati ma bisogna avere anche la capacità di indicare facendo memoria e con visione quello che è un po' l'oggi ecco io mi sento un po' in un'agenda 2030 di chiedere al movimento questo la capacità di togliersi di dosso il problema di essere riproduttivi ma la capacità di ritornare ad essere visionari e proiettarci verso il futuro faccio bene mi chiamo Fedele Teano provincia di Caserta la data Sirici ci dice che bisogna metterci in ascolto di due grida il grido dei poveri e il grido del creato questa sera abbiamo gustato la bellezza di due abbracci l'abbraccio del povero da parte di Bruna e l'abbraccio del creato da parte di Cecilia Cecilia la conosco lei chiaramente non mi conosce perché chiaramente davanti a uno schermo e non vede nessuno ma la vedo sempre l'ascolto perché comunque sono animatore laudato sì e poi seguo il movimento anche per due simboletti da una parte per i Masci sono segretario regionale per la campagna scusatemi non segretario sono ancora assistente già sto ubriando no no sono emozionato la verità sono emozionato e poi sono referente per Napoli e Caserta per i Trati GPC giustizia paciente e grida del creato mi sono il frate che si occupa di queste cose proprio come prima di diventare referente GPC mi arrivava un Whatsapp io non sapevo nemmeno ecco perché io fino ad ora ero legato a te virtualmente da questi due simboletti Masci e GPC e un giorno mi arriva un Whatsapp poi l'altro non sapevo stasera sto scoprendo altro mi arriva un Whatsapp viaggio Siria Aleppo chi vuole venire ci imbarchiamo Siria Aleppo ma chiaramente riservato ai frati una cosa particolare 2018 non è non è un viaggio così semplice sì 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 ci vado e così mi ci sono trovato penso l'unico del centro Italia c'era eravamo otto ecco perché sono emozionato perché c'era questo nome e questa esperienza che continuamente risuonava nel mio cuore che era l'esperienza di Paolo l'esperienza di un uomo che era stato capace di connettersi di mettersi in ascolto di integrare e questa cosa mi piaceva sentire il desiderio di vedere di toccare di sentire questo è il viaggio per me giustamente so che non sto bene con la testa ma non era un viaggio per sani di testa che voglio dire nella parrocchia di Aleppo ho visto sarei voluto tanto andare a Marmusa ma non è facile però ho avuto modo di conoscere da vicino Aleppo Damasco ho visto le rovine della casa dei Gesuiti dove sicuramente vado è stato la cosa che in questo momento mi impalza nel cuore quando mi trovavo nella parrocchia di nostra Francescana di Aleppo che praticamente è una delle poche realtà importanti rimaste integre in Donse entrando abbiamo incontrato tutti i movimenti tutti i gruppi abbiamo condiviso esperienze belle forti vedi sulla sala catechesi dove la notte i ragazzi universitari davano una mano agli altri vedi un cilindro di latta con dei fiori dentro ma era una cosa strana un cilindro sembrava un cilindro di latta dissi ma cosa è questa cosa? e dissi a Ibrahim pariva alza bacche il parroco di Aleppo dissi ma cosa è questa cosa? e mi fece ascoltare l'audio l'audio del bombardamento perché arrivò questo missile praticamente nella cupola di Aleppo e in quel momento stavano cantando il canto di comunione proprio al momento della comunione quando tutti quanti erano allineati in quel momento vennero fuori e disse beh questo che vedi questo cilindro è quello che abbiamo recuperato del missile poi che cosa abbiamo fatto? ci abbiamo messo dei fiori dentro e la domenica abbiamo voluto pregare nella messa per le persone che volevano la nostra morte allora questa cosa mi faceva piacere cioè questa cosa mi colpiva particolarmente perché dicevo ma tu guarda un po' no come un dolore può essere generativo di speranza perché poi in effetti questa è la cosa centrale perché le esperienze vostre l'esperienza di Bruna l'esperienza di Cecilia fanno piangere perché? perché sono esperienze di sono le esperienze vive di due persone che portano una grande ferita nel cuore e non pensa che ci vuole la zingara per indovinarlo però il dolore può essere generativo di qualcosa di importante pensate Tonino Bello no? Tonino Bello ha scritto tanti di quelle cose interessanti importanti che fanno paura ma il meglio quando l'ha dato quando sapeva che era pronto per morire il viaggio a Sarajevo tutte le pazzie che ha fatto tutte le pazzie tutti gli sfizi se le è tolte quando sapeva che praticamente era pronto per il santo viaggio tutto questo io penso a un certo punto penso che ognuno di noi parliamoci francamente ognuno di noi fa esperienza di dolore ho tante volte ho avuto modo di accompagnare avuto il privilegio di accompagnare persone che del proprio tumore della propria malattia della propria crisi familiare del proprio tradimento hanno fatto esperienze generative meravigliose di vita di resurrezione adesso va molto di moda il termine resilienza ma noi conosciamo il termine resurrezione che è ben più potente lo dovremmo ricordare e quindi io dico che l'insegnamento più importante è il tentativo di lettura della nostra esperienza personale si chiama lettura orante della propria vita ognuno di noi ha un dolore ognuno di noi ha un grido che risuona dentro bisogna capire come questo grido che risuona dentro di noi può essere generatore di vita buona per gli uomini che incontriamo sul nostro cammino questa credo che sia la parola la parola forte qualcuno giocando con le parole diceva che le ferite possono diventare feritoie e questa forse è l'esperienza forte una ferita che è una cosa grande inenarrabile ma allo stesso tempo ci può permettere di scrutare la nostra vita ma soprattutto un orizzonte nuovo l'orizzonte che il Signore dall'eternità porta oggi nel nostro presente grazie allora adesso avevamo Andrea sì sì ci sei però so c'erano anche loro ok io sono Andrea sono segretario del Friuli Venezia Giulia la Paola mi ha fatto venire in mente alcune scelte di vita che ho fatto anch'io nell'88 quando ho scommesso a 24 anni di farmi la paga lavorando nelle copertive sociali non assistenza quindi a parte ma l'inserimento lavorativo quindi sono quello che viene dopo per trovare lavoro a questa gente qua e mi rallaccio quanto è stato detto prima dove io lo faccio per lavoro cioè il mio esempio la mia scelta all'idea di questo faccio è tutti i giorni quando apro l'ufficio e faccio le gare per la gente quando sento dire ai miei ragazzi mi portano via al lavoro io dico a chi è davanti guarda a me perché io faccio la gara io te lo porto via non lui ok se non fai la fine della pecora che passa la vita convinto che la mangerà il lupo invece se la mangia il pastore perché questo è quello che succede alla pecora ok quindi io penso che è l'esempio ogni giorno noi ogni giorno possiamo scrivere quando ci alziamo la mattina sul foglio di carta quello che abbiamo fatto che possiamo fare quindi il nostro esempio è farlo quotidianamente questo è quello che dobbiamo fare l'esempio diciamo sempre ai ragazzi che hai fatto l'esempio mi dico a Dio soli siamo un esempio facciamolo e poi a Franco dove diceva giustamente alcune cose che non abbiamo il coraggio non c'è qualcosa davanti in realtà noi nel Masci c'è gente che c'è da 30 anni quindi noi il tempo l'abbiamo cioè chi va a votare chi è che vuole l'essere detto non ce l'ha noi sì è il nostro compito darci una linea e battere sempre lì per arrivare dove dobbiamo andare perché lui il tempo non ne ha io sì quindi noi abbiamo il tempo e l'esempio viva Dio prendiamoli su e andiamo avanti perché questo è quello che ci si chiede sono Marcello Borgo San Lorenzo provincia di Firenze volevo fare una riflessione più che un discorso a dire grazie a loro è una riflessione che sto facendo da un pezzo per me e parte appunto dal discorso della di questo aspetto della generatività scusate e parte addirittura invece dal dal Vangelo dal seme che muore ecco io ho fatto questo ripensando ma rispetto a me rispetto al mio morire continuamente e la riflessione in realtà il seme non muore ma si trasforma ed è questo la cosa bella che noi dobbiamo comprender cioè se io penso al seme di grano che muore e lascia frutto come dice il Vangelo ma in realtà quel frutto si chiama grano come il seme anche il frutto si chiama grano così tutti i semi si chiamano come poi l'albero come poi il fiore o come poi cioè il frutto ha lo stesso nome del seme quindi il punto è che non è che noi dobbiamo morire noi dobbiamo appunto trasformarci la resurrezione è questo non è una morte è una trasformazione e questo è un qualche cosa ci deve succedere a noi e anche alla nostra organizzazione anche la nostra organizzazione non deve avere il problema a trasformarsi si chiama maschi si chiamerà maschi però potrà essere un maschi diverso e questo è fondamentale perché se non lascia se non muore se non si trasforma allora finisce il maschi Leonardo Magister della Comunità Ammatelica Marche dunque perché il nostro impegno sia generativo secondo me servono un sacco di elementi per far sì che il nostro impegno sia generativo e mi piacerebbe mettere l'accento su due su due aspetti uno il cuore cioè l'amore la passione e nei vostri interventi si è visto in quello nella forza con cui Cecilia ha presentato ha esposto cioè la passione cioè è proprio trapelata in maniera evidente e Bruna anche Bruna lei dice piccolina di statura ma è un cuore grande quindi mi sa che è tutto cuore lei cioè nel senso in realtà era ben evidente il secondo aspetto è quello dell'azione perché per essere generativo poi non possiamo solo e sempre parlare dobbiamo agire voi avete agito anche in base alle vostre difficoltà Cecilia ce l'ha detto le sue difficoltà Bruna ne ha avute molte le ha affrontate quindi dobbiamo agire lo scout viene rappresentato lo sappiamo con le maniche arrotolate ma non perché ha caldo ma perché è una persona pratica è una persona che ci mette del suo agisce ok quindi l'invito che vorrei lasciare al Masci del futuro nel 2030 è questo di avere un cuore di stare attenti ad avere a non avere un cuore di pietra ma avere un cuore tenero e a ricordarsi di tenere le maniche arrotolate tutto qua mentre aspettiamo alzate le maniche vuole ancora intervenire così ho il quadro ho Ernesto un due tre vai non ho visto qua scusatemi ok ok sono sempre molto breve allora intanto inizio con il movimento laudato sì che ehm Marianna Molfetta due eh Puglia 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 che non sapete che geografia difficile allora eh grande apprezzamento eh per questo movimento tutti i movimenti eh che portano un'attenzione a un'attenzione a questa problematica eh sono assolutamente importanti e fondamentali però io da lì poi quando è accaduto intanto mh ho avuto un pensiero eh che mi ha messo in crisi avevo bisogno di questa cosa che si chiama corso già la parola corso negli scout non dovrebbe esistere eh ci sono i campi di formazione le uscite di formazione già la parola corso ehm è secondo è uno stimolo che vi do noi abbiamo un patto comunitario all'interno del quale c'è la parola creato in teoria eh noi non dovremmo cioè eh poter frequentare degli stimoli esterni va benissimo ma mi chiedo come mai abbiamo avuto bisogno di stimoli esterni al punto da inserire una figura animatore eh della laudato quando l'attenzione è una cosa di BP al il vivere sempre all'aria aperta l'attenzione alla natura fa parte del nostro DNA di scout che io possa poi eh per conto mio partecipare così come voi avete partecipato alla laudato sì io ero partecipata ad altri con altri nomi di altre reti nulla toglie per me va benissimo però io mi pongo il dubbio dico anche per la regione mia no avevamo bisogno come mai non sappiamo più usare eh il nostro patto comunitario non sappiamo usare più quelli che sono i nostri strumenti le nostre metodologie la nostra strada la nostra vita all'aria aperta perché in fondo eh attraverso quello è il modo più semplice per trasmettere il messaggio dell'attenzione al creato eh dalla laudato sì certamente o passo al discorso di servizio e quindi a quella che l'ecologia integrale di cui si parla all'interno della laudato sì una laudato sì che devo essere sincera noi come uscita abbiamo fatto una miriade di attività anche sul territorio eh per cui penso che sta proprio eh non c'è stata comunità che non abbia fatto un'attenzione eh sul creato che è la parola che sta nel nostro patto comunitario e quindi arrivo al discorso della di questa ecologia integrale cioè l'attenzione anche all'uomo che fa parte ovviamente dell'ambiente noi come tanti abbiamo vabbè senza fare voli pindarici ognuno ha agito nei propri territori in pandemia fuori della pandemia non esiste comunità che non agisca per con un servizio dalla Caritas all'ultimo lo straniero non esistono poi ci sono quelli con numeri più alti ma non c'è comunità che non lo faccia eh però io eh a quel punto dico eh noi l'abbiamo fatto in che modo lì dove finisce il terzo settore perché il terzo settore a un certo punto li abbandona Leo concordi eh li abbandona e li stiamo noi che dobbiamo poi cercare casa gli dobbiamo trovare lavoro una volta che è finito il cosiddetto progetto di un anno pagato allora eh in che modo io dico questo intervento questo il sociale la parola fuori è generativa fin fin tanto che questa riesce a come dire far crescere la mia comunità io non devo altrimenti ricado nel pordenone nella riproduttività io non devo fare a gara a quanti servizi sociali faccio io ne faccio di più le foto non le foto eh cioè io credo che devo fare servizio fin tanto che questo mi arricchisce come comunità mi fa crescere perché io rischio di fare servizio fuori avere un involucro vuoto spero di essermi spiegata su questo per cui un'attenzione a generativo alla trasformazione non è detto che io mi trasformo divento terzo settore divento più generativo avrò sempre delle comunità vuote io ritengo che questa attenzione all'ultimo debba rimanere la sostituzione di quello che è il gesto della carità la nostra comunità si chiama Don Tonino Bello questo significa lui usciva fuori dalle strutture usciva fuori dagli schemi lì dove c'è bisogno intervengo non è un volontariato da professionisti lo lasciamo fare a chi per loro ai giovani i ragazzi che creano penso che anche tu starai in questo settore però il discorso è che attenzione alla trasformazione a quella che può essere se ci chiamiamo in un altro modo una veste giuridica diventiamo più importanti io credo che lo scout non è mai stato non ha mai agito dall'alto è sempre stato un lavoro capillare silenzioso e piccolo noi non siamo quelli che devono combattere nei nei piani alti sulle poltrone non è quello il nostro compito a noi non almeno a me non interessa per cui io voglio dire solo questo cioè andiamo nel capillare poi ben vengano ovviamente le reti sono bellissime noi lavoriamo con le reti è bellissimo poi io il discorso della laudato poi l'ho messo solo come critica nostra all'interno delle comunità come mai abbiamo bisogno dell'esterno chiediamo però il discorso del sociale attenzione alla professionalizzazione noi non siamo professionisti io lavoro in un'altra professione io con tutto il cuore come hai fatto tu forse era allora scusate su questa cosa che ha detto Mariana due considerazioni velocissime la prima la formazione degli animatori dell'autosì non è una cosa che si istituisce anzi cioè è un momento di formazione permanente degli adulti scout e del movimento che farete con le sì degli adulti scout perché stiamo parlando degli adulti scout chiaramente gli adulti in generale perché non siamo solo noi però diciamo non è una cosa che sul resto le considerazioni del settore se me andavano fatte saranno da fare all'assemblea di gennaio non è questa la sede secondo me cioè altrimenti usciamo fuori dal nostro dal nostro discorso e chi c'era scusate ricordatemi c'era Gianni intanto me l'ha detto da un sacco di tempo e poi Ernesto sì le repliche le facciamo alla fine se di voi abbiamo un'altra mezz'oretta tranquillamente sono le sei e mezzo diciamo che alle sette comincerei a dare la parola a Bruna e Cecilia per un intervento diciamo Gianni Scotto Roma 12 dunque è inutile andare tanto pedire sottile si tratta di essere generativi generativi io sono poco ottimista perché le due discussioni teoriche Mauro Magatti stamattina aveva concluso se ognuno procede sulla sua strada è un gran casino e Giorgio Prada aveva concluso riproduttivo non innovativo e qui si tratta di rimboccarsi le maniche tutto può cambiare di fatti anche il tempo prima c'era il sole adesso piove l'esperienza di 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 Bruna e di Cecilia sono altamente significative dobbiamo rimboccarsi le maniche e io vedo il nostro governo Draghi in Italia se se non procede se non si rimbocca le maniche e procede sulla strada dritta sulla strada perché è difficile accontentare tutti perché è tutto l'arco costituzionale meno la Meloni quindi è difficile accontentare tutti se accontenti l'uno non puoi accontentare l'altro c'è poco da fare perciò il problema è di rimboccarsi le maniche e di procedere sulla strada giusta grazie allora ciao a tutti sono Guido del Cassano primo in Lombardia innanzitutto Bruna è andata via volevo ringraziare in un modo un po' particolare Bruna si volevo partire da questo discorso per collegarmi poi al generativo eh niente poi magari sì forse forse per quello che ti dà tutto il tempo Ernesto grazie grazie beh io devo dire che questo tutto questo tutto questo evento di questi giorni stanno sta rappresentando un crescendo veramente strepitoso la ciliegina sulla torta questa sera ce la danno Cecilia e ce la dà Bruna perché effettivamente abbiamo potuto riscoprire un senso davvero molto propositivo e come stiamo dicendo generativo io mi rifarei alla torre di Babele la torre di Babele se noi ci ricordiamo tutti eh era un atto di presunzione cioè eh l'uomo voleva costruire una torre che potesse eh sfidare l'onnipotenza del Signore e dopo tutta questa costruzione così eh ardita ad un certo momento la parabola ci dice che il Signore seminò diversi linguaggi e quindi generò una uno stato di incomprensione io penso che su questo credo che dobbiamo riflettere oggi vent'anni fa venivano abbattute le torri gemelle e quindi noi eh siamo in una situazione di eh di tempo irreversibile cioè io penso che per non ripetere un'espressione abusata se non ora quando la realtà penso che sia evidentissima che ha assunto ormai un percorso in ordine al quale o leggiamo dei segni incontrovertibili prima veniva ricordata anche Greta Thunberg ma laudato sì e il nostro meraviglioso Papa Francesco effettivamente ci ci danno indicazioni cioè io penso che al di là di quelle che sono delle dei campanelli d'allarme il campanello forse si è stancato di essere di essere suonato perché in realtà non produce quella forma di allarmismo che meriterebbe di essere presa in considerazione e io temo davvero temo che stia subentrando un fenomeno di assuefazione per cui l'allarmismo continuato ad essere ripetuto finisce per non dare quel quella quella diciamo quel grande scuotimento delle coscienze di cui abbiamo terribilmente bisogno quindi pensiamo davvero a generare attraverso anche il nostro piccolo intervento come è stato ricordato prima da chi mi ha preceduto in fondo noi siamo piccoli come scout siamo piccoli ma siamo determinati ora questa determinazione deve essere in qualche modo mobilitata da chi ha la possibilità di renderci in qualche misura propositivi io stavo concludo io stavo considerando tutto quello che sta accadendo in Afghanistan ci deve far riflettere perché sì è vero che i talebani sono dei carnefici assurdi ma gli afghani stessi quando le donne vengono nel nostro paese vigilano molto severamente il comportamento delle loro donne allora forse dovremmo scomodare anche un po' l'antropologia e arrivare ad un punto di sano discernimento di quello che deve essere un equilibrio comportamentale che induce tutti quanti noi ad avere una decodifica di quello che è l'agire retto è chiaro che sotto questo profilo il capitalismo ormai sta segnando inesorabilmente il suo aver raggiunto un punto di non ritorno e direbbero i pelle rosse e noi parliamo con la lingua biforcuta grazie ok sono sempre guido del Cassano lombardino sono sempre quello di prima allora io parto con per fare un ringraziamento a voi tante persone vanno già ringraziate per tutto quello che fate parto da questo io lo scorso anno ho fatto la promessa non mia due nuovi adulti scout sono rientrati dopo ventitré ventiquattro anni non nel Mashi ma dalla Gesci al Mashi loro sono è una coppia che lavorano con i ragazzi con con un metodo lo scoutistico che hanno portato e hanno fatto il lavoro dello scoutismo ci hanno conosciuto e hanno voluto entrare nel Mashi e quando hanno fatto la promessa hanno preparato tutto un percorso su sulle vie dell'Adda della della nostra zona e come ringraziamento ci hanno dato a ogni presente la classica molletta la mollettina da stendere i panni con scritto grazie di te io questo lo dico grazie di voi questo è il mio ringraziamento per quanto riguarda il generativo sul lavoro che parlo direttamente al Mashi del 2030 io sono convinto che il non mi vengono le parole sono un po' emozionato io sono convinto sì 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 io nella mia comunità facciamo parecchio servizio sociale seppur di una sola giornata ma secondo me è quello che mi ha mi ha fatto crescere parecchio con gli anziani facciamo un servizio di portare la spesa agli anziani con assistente sociale con servizio coppe queste cose qua e direi di non abbandonare questa cosa qua nell'aiutare i fratelli fratelli e sorelle perché realmente soprattutto gli anziani ne hanno bisogno ma veramente tanto bisogno io tutti i sabati mi fermo da una famiglia da una coppia e sto più di un'ora e mezza a parlare con loro perché questo è quello che vedo che hanno bisogno e come gli anziani hanno bisogno chi arriva con i barconi hanno bisogno questo è quindi il mio maschio nel futuro è questo spero che continui questo è un'altra cosa per i maschi del futuro visto che si parla di ambiente di di aiuto all'ambiente penso che ormai lo facciamo un po' tutti andando al supermercato a prendere la frutta cercando di prendere la frutta che non è nel sacchetto di plastica o non è nella confezione di plastica ma cerchiamo di prendere la carta e questo qua sarà il nostro lavoro per il futuro dovrà essere continuativo per il nostro futuro e aggiungo questo prima è stato tirato in ballo le buste di plastica io dico questo chi produce plastica paga per lo smaltimento della plastica quindi sarà una lotta durissima ma veramente veramente dura perché quando al mio paese è stato fatto il discorso della raccolta differenziata ci è stato detto chi produce la bottiglia di plastica chi produce la lattina chi produce paga paga per avere per smaltire questa cosa qua e i comuni e i comuni per smaltire vengono pagati quindi è un boom non mi viene un boom economico che non riusciremo mai a fermare e questo sarà un grande un grande lavoro da fare andiamo in giro dei primi interventi ci sono altri 1 2 3 ok ciao io sono Claudia del Padova 6 e non sono la magister anzi io sono nel Masci da poco più di un anno però il posto giusto dove stare intanto ovviamente ringrazio le due relatrici che sono una bellissima sintesi secondo me proprio dell'audato 6 loro sono rappresentano questa bellissima enciclica volevo proprio velocemente anche io un pensiero una riflessione su questo il generale il nostro generale io lavoro nell'ambiente da sempre mi occupo di alberi sono forestale e adesso gestisco gli alberi della mia città ed è un mestiere bellissimo perché posso sporcarmi le mani ma devo anche molto essere anche molto cerebrale molto di testa devo studiare ho avuto anche l'occasione addirittura di collaborare con la Commissione Europea per lavorare per gli ultimi documenti della sostenibilità 20-30 quindi ti rendi conto lavorando così di che rischio abbiamo però noi che lavoriamo nell'ambiente o noi magari che si definisce ambientalista cioè possiamo essere molto facilmente manipolati da chiamiamola proprio la politica io ovviamente vedo di più quella locale lavoro in un comune ma ovviamente ancora di più a livelli più alti perché è un argomento molto facile questo per avere voti per essere sulla bocca di tutti rischiamo di fare il loro gioco se lo facciamo malamente allora io mi trovo a volte in situazione di formare giovani adulti di parlare di divulgare non so se io parlo con studenti di architettura io non gli porterò mai ad esempio il bosco verticale di Milano che forse qualcuno di voi ha idea di che cos'è dove Boeri ha cavalcato un cavallo fantastico lo sta divulgando in tutto il mondo ma questa cosa bellissima da vedere bellissima quella non è ecologia cioè andare a mettere alberi dove non ci possono stare perché sono sopra un grattacielo ecco quelli hanno un'impronta ecologica da paura da spavento la quantità di energia che viene sprecata ma molto nel più piccolo andare a dire io amo l'ecologia sono ambientalista piantiamo gli alberi perché così aiutiamo la nostra città non c'è niente di più sbagliato anche in quello sì piantiamo gli alberi ma non è la quantità che ci salverà se noi abbiamo come dice l'enciclica un pianeta inquinato abbiamo dei problemi sociali che derivano da tutto questo non sono gli alberi che ci salvano siamo noi quindi non possiamo delegare a delle quantità solo perché sono dei numeri su questo si lavora il politico c'è qualunque partito di qualunque colore lo userà per avere voti alla prossima elezione quindi noi non diventiamo il loro strumento nel senso facciamo le cose con testa e se non sappiamo facciamo un passo indietro io so poche cose e sono nel mio campo però altre cose mi affido a chissà quindi se non sappiamo gli ambienti lasciamo fare a chissà o andiamo a chiedere informiamoci perché ad esempio piantare alberi in una città ha senso se tu li fai vivere se io ne pianto 10.000 e poi non ho i soldi per dargli acqua per stargli dietro io ho imbrogliato le persone allora questo non è una critica generica è proprio generiamo ciò che sappiamo generare e tentiamo di non generare dei piccoli mostri ecco siamo adulti anche siamo molto adulti quindi abbiamo una nostra esperienza usiamo la nostra esperienza per capire cosa possiamo fare senza rischiare anche senza volerlo di fare male ecco Claudia ci ha ricordato che si possono generare pure i mostri questa è una cosa che bisogna sempre tenerlo vai poi abbiamo per avere il quadro io e tre perfetto vieni vieni magari poi gli interventi di replica brevissimi così poi alle sette diamo allora un grazie intanto a Bruna e Cecilia prima di tutto volevo Mario Monastiero 1 Treviso Veneto volevo un piccolo chiarimento da Cecilia io lavoro a nome del Massi insomma ma collaboriamo insieme con la comunità la Dodo Sidi Treviso e avevo non capivo bene prima il discorso dei circoli e delle comunità volevo capire se c'è una differenza magari dopo se posso saperlo volevo dare sì volevo dare un piccolo contributo prima si parlava di incidere di rimboccarsi le maniche no? e allora così noi nel nostro piccolo siamo una comunità che ha quattro anni di vita quindi giovanissimi abbiamo tentato di andare fuori dalla porta cioè uscire un po' dalla parrocchia e spostarci su ambienti che sono meno consoni alle nostre abitudini diciamo quindi ci siamo dati da fare insieme anche con la comunità Laudato Si di Treviso puntando fortemente sulla Laudato Si che non so quanti di voi hanno letto totalmente io l'ho letta tutta ed è un trattato scientifico più che insomma tanto di cappello quindi ci ha ispirato a un sacco di cose abbiamo cercato di giusto per parlare di cose pratiche insomma di generare degli incontri abbiamo fatto tre incontri specifici sulla Laudato Si e poi siamo riusciti con tanta fatica a organizzare degli incontri anche questi con la Laudato Si insieme con dei tecnici specialisti uno era il professor Zobi che si occupa di materie plastiche che ha spiegato e qui ci sta anche secondo me un sano allarmismo che le microplastiche ormai le troviamo nelle nanici del sangue quindi insomma bisogna anche dire le cose come sono poi abbiamo organizzato un altro incontro sul piante con un altro docente che adesso mi sfugge il nome non ultimo l'altro giorno sono stato a un convegno che è stato trattato dal professor Mancuso che penso che tutti conoscete insomma è un esime neurobiologo di Firenze e lui ha fatto un discorso ha detto la natura può vivere senza di noi ma noi non possiamo vivere senza la natura quindi era solo per dire che dobbiamo uscire un po' di più dello scoperto perché dobbiamo incidere e secondo me questi incontri qua hanno una potenza di caricarci che andiamo a casa con una bella carica e grazie grazie salve a tutti Gigi da Chieti Abruzzo non volevo intervenire perché sono venuto a questo incontro con il cuore un po' a pezzi per motivi miei però grazie a Dio ringrazio Dio di essere invece arrivato qui per poter ascoltare quello che è stato detto all'inizio e vi ringrazio infinitamente qui più che essere generativi credo che bisogna essere coraggiosi e io credo che il coraggio che avete che mostrate giornalmente con con i fatti con le cose che ci raccontate sia la cosa più importante per tutti i movimenti ma soprattutto per il nostro che adesso deve cambiare passo deve per forza adeguarsi a qualcosa che per noi per noi credo sia abbastanza nuovo perché siamo abituati a lavorare con un po' con il freno a mano tirato almeno nel posto dove io opero giornalmente quindi grazie di questo coraggio che ci date grazie a voi di essere così coraggiosi ma che cavolo come si fa ci avevamo prima il secondo giro lo facciamo domani ciao a tutti sono Luigi del Legnano 1 Lombardia sono anche oltre a essere chiaramente Magisterio del Legnano sono nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bronsi che sta chiudendo quest'anno un progetto che è partito nell'84 ad Arambè ad Arambè per dare la possibilità alla comunità del posto di avere la possibilità di gestire un certo tipo di economia del posto e anche che potesse dare lavoro alle persone che sono tutte intorno alla zona questo l'abbiamo fatto perché pensiamo e siamo convinti che si possa operare tanto sul posto ciò non toglie che le persone che purtroppo devono essere accolte in Italia scappano da realtà che sono assurde che noi non riusciamo neanche mai ad immaginare quello che volevo dire è che il loro lavoro è senz'altro un lavoro fantastico purtroppo dal mio punto di vista sono vittime tanto quanto chi vanno a soccorrere perché noi dietro a quelle persone che partono abbiamo delle organizzazioni spaventose che fanno marketing torturando la gente perché così dicono apriamo il cuore delle persone così tanti si mettono ad aiutare a fare dobbiamo stare molto attenti perché da una parte non possiamo dire di no anzi cioè ci spinge ad essere ancora più dall'altra parte dobbiamo però essere consapevoli perché questo tipo di perché ci sono questi sbarchi che sono a momenti sempre a sparire tutto poi ritornano le guerre sono continuamente ci sono non è che hanno nei momenti in cui si fermano dobbiamo semplicemente andare un po' oltre noi sappiamo che le persone che arrivano qui hanno già una destinazione nel senso vogliono già andare a trovare parenti o altri che conoscono in Europa quello che ha fatto l'Europa fino ad ora è decidere che chi arriva in Italia o la roba del genere deve essere destinato da qualsiasi parte cosa abbiamo cosa otteniamo così che io ho un migrante che ha dei parenti in Belgio arriva qui sapendo che in Belgio troverà qualcuno che riuscirà a sostenerlo e noi lo mandiamo in Romania perché chiediamogli dove vuole andare questo non avviene nella maggior parte dei casi noi abbiamo queste persone che purtroppo diventano dei parchi e a me dà molto fastidio perché dopo ce li troviamo a Milano a Bergamo che devono trovare una strada per riuscire ad arrivare dove vogliono arrivare non è giusto cioè nel senso purtroppo la realtà è che a un certo punto le abbandoniamo per quello che dico sei anche vittima di queste di questo modo di di agire no 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 nel senso che purtroppo viene usata cioè viene usata per questo chi no chi fa no cioè noi siamo strumenti di Dio per aiutare queste persone però dobbiamo anche stare molto attenti dall'altra parte a chi ci ci usa come ci strumentalizza ciò non toglie che è un lavoro che io lo farei se fossi là farei sarei il primo ad essere su un volo faccio servizio sull'ambulanza tra 30 anni anzi a 40 anni ho faticato tantissimo tante volte a convincere persone che erano in regolare di andare in ospedale perché avevano paura che li denunciassi sono tante le cose tante sfumature che bisogna però conoscere nel senso bisogna anche rendersene conto che ci sono un'altra cosa che volevo dire senza nulla a togliere quello che è il discorso ecologista io penso che noi scout l'ecologia l'abbiamo nel DNA e l'applichiamo da quando siamo partiti e vabbè dopo lo dici possiamo fare tanto ma possiamo fare tantissimo nel nostro piccolo io tutte le volte normalmente vado a fare passeggiate nei boschi normalmente torno con due sacchetti di spazzatura normalmente è una cosa piccola non risolve nulla però piano piano quel sentiero lo trovo sempre più pulito dobbiamo aiutarci a fare delle cose piccole tutti i giorni e pensare e come fare le cose più grandi insieme perché l'unica cosa possiamo fare possiamo farlo insieme ma anche 8 miliardi di cose devo dire è giusto lasciare spazio d'altro c'è qualche altro intervento primo no aspetta io vi dico chi non è ancora intervenuto sì c'eri tu scusami prima facciamo parlare chi non ha scusami la colonna non ti ha aiutato ok ciao paolo genova quarto paolo genova quarto uno magista niente volevo portare così il nostro contributo come comunità il lavoro che abbiamo fatto di preparazione a questo evento al campo estivo come comunità che ci ha portato a interrogarci su quello che ci aspettiamo che sia un po' il maschi del futuro allora sicuramente è tutto giusto quello che abbiamo sentito e anzi ringraziamo per il contributo bellissimo che mi porterò a casa e spero di trasmettere agli altri e quindi sicuramente continuare nel cammino nel fare nel saper fare nella competenza però così anche quello che secondo me l'emergenza ormai evidente della situazione ci porta forse ci stimola a dover fare un piccolo passo avanti quindi ci aspettiamo che sia la nostra comunità ma un po' tutto il maschi così cammini un pochettino su una strada di diventare un pochettino più stimolante quindi sappi incidere maggiormente come ho già sentito dire da altri anche nelle forze politiche sull'orientamento politico sia a livello locale sia a livello nazionale chiaramente a livello nazionale sarà molto più difficile su questo per me ci vuole una collaborazione sulla struttura però questo è un pochettino in un piccolo la riflessione che abbiamo fatto noi come comunità così come anche il discorso sempre di più di sviluppare la capacità di fare rete che stasera di aver sentito da molti di voi forse noi siamo una comunità molto giovane dobbiamo ancora un pochettino rodarci su questo ma sicuramente credo sia il futuro anche questo molto importante la capacità di fare rete con altre associazioni quindi non pretendere di essere noi autoesustivi di risolvere da soli i nostri problemi perché questo non è possibile ma sicuramente la capacità di fare rete con gli altri potrà darci una mano a risolvere questi grossissimi polini grazie Serena Enrico poi chiudiamo così poi diamo la parola a Bruna Stavolta mi impegno a essere veloce allora nel il sesto articolo della legge scout la guida lo scout a mano e rispettano la natura ok allora nella prima versione di Baden Powell c'era scritto amano gli animali perché probabilmente all'epoca sai ecco e adesso è a mano e rispettano la natura quando è stato fatto il sondaggio ieri sull'articolo che viene più difficile applicare l'articolo che era ritenuto da tutti il più facile da applicare era a mano e rispettano la natura si è classificato all'ultimo posto allora vi lascio con una domanda com'è che siamo sull'orlo del collasso climatico lascio a voi dare la risposta pensateci ecco però siamo no ecco e mi ricollego alla seconda cosa l'essere generativi e l'essere semi no la cosa del pasto vegetariano e la cosa della cartella di plastica ve l'ho detto perché essere generativi vuol dire tornare a casa e dare messaggi importanti il messaggio secondo me purtroppo qua abbiamo perso una grossa occasione essere generativi e aver capito lo spirito della laudatosi in questo momento vuol dire che quando io torno nella mia comunità magari anch'io dico sapete che cosa c'è di bello quest'anno la cena sociale la facciamo senza carne per esempio oppure sapete che c'è di bello nelle nostre case scauta aboliamo il monouso non ci deve più ci facciamo un culo così perché come facciamo noi ci portiamo a casa la borsa con i piatti da lavare però usiamo solo piatti che si possono lavare e riutilizzare mille volte ok quindi mi ricollego al discorso che serve una competenza ultima cosa poi rispondo lei che ama gli alberi io non sono una forestale ma mi sento una forestale io sono socia del gufi mi interesso di alberi in maniera pesante non fatevi finocchiare da chi dice anche è vero che la laudatosi le comunità hanno aderito al progetto dei 6 milioni di alberi eccetera eccetera quella roba lì viene spessissimo strumentalizzata cominciamo a conservare gli alberi che abbiamo a difenderli a spada tratta il prezzo del legname capovolgere il sistema tu dicevi il sistema capitalistico la produzione il prezzo del legname dal 2020 ad adesso è decuplicato quindi quando vedete gli abbattimenti molto spesso ci sono dietro ragioni sì sì va bene comunque comunque allora chiudiamo chiudiamo a livello mondiale no è aumentato comunque a parte quello informiamoci e studiamo in questo modo possiamo essere generativi nelle nostre comodità scusate grazie allora chiusura ad anello chiusura ad anello abbiamo aperto con Enrico chiudiamo con Enrico solo una nota tecnica chi vuole avere il libro gratis di Maurizio Nocera faville di educazione permanente cliccare sul sito Masci Lazio chi vuole avere invece gratis il mio libro dalla culla alla tomba educazione permanente e personalismo comunitario mandare una mail a Enrico punto capo chiocciola gmail punto com ug ho detto spazio pubblicità progresso l'abbiamo esaurito sì ok allora anche qui chiudiamo all'inverso cioè diamo la parola prima a Cecilia e poi a Bruna per così suggestioni che vi vengono da questi stimoli e queste riflessioni che abbiamo ascoltato non è facile un grazie infinito per tutto quello che ho ascoltato e che sarà molto utile anche per il processo strategico che come movimento stiamo facendo perché anche noi rischiamo di di fare troppe cose non è no poi non avere la visione essere generativi questo è un problema che è anche per noi perché è tutto importante però poi bisogna anche decidere qual è la cosa che è più generativa da perseguire di più quindi moltissime delle vostre considerazioni le riporto a casa per una riflessione ecco veramente grazie Enrico Capo è nella dedica di un libro adesso ho chiesto bene il nome nella libreria di papà perché attraverso appunto l'assistenza eh delle dei primi no in ambito rurale si faceva anche un servizio sanitario in modo indiretto non so bene ecco però eh quindi tutta la la gioia di averla vista qui oggi e ci ricordava passione e razionalità e abbiamo un po' chiuso con questo tema della complessità io penso che noi dobbiamo governare tutte e due queste dimensioni ehm dice il parroco della mia parrocchia che noi siamo schiavi di un sistema dualistico per cui o è così o è così e invece dobbiamo imparare a dire è così ed è anche così e saper stare tra due tensioni e secondo me questo è una cosa cioè non dobbiamo essere contemplativi o attivi no contemplativi come dicevano i piccoli fratelli di Charles de Foucault da Aspello il e così penso io la sento molto questa questione della complessità e quando nel movimento sento una tensione troppo alla semplificazione un po' da movimento faccio fatica anch'io perché anche una battaglia politica locale pur giusta possiamo sempre sapere che ha delle ripercussioni in quel momento a livello non so politico che potrebbe andare proprio a colpire quella parte che in quel momento sta rimando dalla parte giusta cioè c'è una complessità che io penso che sia sempre molto importante tenere presente che non deve togliere però l'attenzione dell'audacia del coraggio e del fare il Serena grazie chiaramente di tutto e ti terrò presente perché su Milano appunto adesso c'è il campo della Foxiv con i giovani Foxiv noi non abbiamo cioè noi siamo io Antonio che conoscete per chi segue gli animatori il profilo Facebook del movimento che vi invito se ci avete Facebook io non ce l'ho a seguirlo perché così avete un aggiornamento quotidiano anche di tutte le altre cose che vengono fatte dalle altre realtà e poi c'è Elena che ci dà una mano però ecco noi non riusciamo a stare dappertutto quindi contiamo molto sui membri ora Foxiv ci sta aiutando per un appuntamento col Parlamento che speriamo di fare prima della Cop anche perché è chi ha i piedi in un paese che sa qual è la complessità io adesso sono dalla parte più mondo tra virgolette e Friday for Future però noi l'abbiamo sempre sostenuto è chiaro che il nostro approccio olistico della laudato sì ha qualche cosa di molto molto specifico quindi noi dobbiamo essere uno dei valori del nostro movimento è di cercare di essere dei ponti noi dobbiamo essere dei ponti anche un mondo per esempio ambientalista che può non avere la stessa dimensione olistica che vuol dire tenere insieme la dimensione della preghiera della spiritualità della fede con la dimensione degli stili di vita personali e comunitari oggi si è parlato anche di comunitari e la dimensione politica per noi sono insieme questa è la rivoluzione della laudato sì di avere messo insieme queste tre cose non si può essere solo l'associazione la Fox si fa cooperazione noi facciamo questo no cioè questo è cambiato la laudato sì ci dice che tutti dobbiamo fare tutte queste tre cose e la pastorale dell'azione cattolica se non incrocia queste altre dimensioni non è una pastorale dall'aula da sì la catechesi si deve anche quella in qualche modo mettere in discussione e capire come fare entrare queste cose l'ha detto bene un vescovo della Sicilia dicendo a me mi accusano se faccio fare la raccolta differenziata alla catechesi mi dicono che sbaglio invece no sto educandoli a queste tematiche quindi è tutto questa cosa qui eh Friday for Future è una provocazione per noi quando si diceva è nel nostro DNA l'ho detto anche in agesci sì è nel nostro DNA però noi abbiamo metodo scout è la laudato sì praticamente lo stile scout però la borraccia come simbolo di cambiamento l'ha fatta Greta e noi usiamo la borraccia da una vita questo è il problema di avere la consapevolezza di quello che noi siamo portatori e saperne anche fare una cultura una proposta è una cosa ehm poi eh Rossella Paola ha parlato anche di Rossella Pandolfino giù sono molto contenta di questi sogni di Chirida Calabria mi è piaciuto moltissimo questa potrebbe essere una bella attività e sul sogno vi richiamo questo più a titolo personale la lettera di quest'anno di su compadri compadri scordi del che è veramente bellissima e io credo che questa cura è stata la prima omelia la prima messa di Papa Francesco era il giorno di San Giuseppe ha parlato di Giuseppe come il custode che ha cura che sogna che ha fede e a me mi mette anche molto in discussione perché insomma ognuno di noi no? c'ha le sue e credo che per esempio questo aspetto della misericordia del padre e che quello che il Papa Francesco ci ricordo ogni secondo che l'alleanza è prima della legge noi io lo devo lo che devo ci devo entrare molto di più ecco che noi siamo figli amati e che gli ci guida in questa è una dimensione ecco importante il Rossella sarà con me alle settimane sociali abbiamo fatto anche un gruppettino incidere sulle leggi diceva Franco e sulla politica ecco insisto sul fatto che secondo me è importantissima la coscienza politica di quello che noi stiamo dicendo quindi prima si parlava la campanella suona troppe volte no? non stiamo più rispondendo scusate se non mi ricordo tutti i nomi però faccio un esempio perché poi sono gli esempi di vita quotidiana due giorni fa chiacchieravo con la mia amica del cuore di una vita e la figlia sedicenne è in grave situazione di anoressia allora questa è la donna che noi civiltà occidentale propiniamo su Instagram quindi dobbiamo avere coscienza che questo sistema capitalistico fa noi schiavi di un consumismo la nostra piccola impresa italiana si porta ormai i pacchi di Amazon quindi dobbiamo avere una coscienza di che cos'è questo sistema capitalistico e e anche che ripercussioni ha perché educare in famiglia da sola cioè delle ragazze non è facile dire non stare su Instagram e non metterti lì si è da soli quindi c'è veramente un attacco quindi questa è una grandissima occasione anche per liberarci di tanti problemi che voi conoscerete meglio di me perché siete genitori grazie anche ad Anna per aver detto questa cosa del corso animatori perché ecco anche io penso che nelle varie linee strategiche possa essere generativo su questo diceva la scusate diceva Marianna dice ma perché abbiamo avuto bisogno no? di stimoli esterni quando c'hai ragione da un certo punto di vista eh però io credo che sia anche questo il motivo per cui esiste per esempio un movimento laudato sì perché io mi rendo conto l'altro giorno ho fatto una riunione con Malta e abbiamo messo insieme due uffici della conferenza episcopale lì è piccolina una giustizia e una creato i focolarini l'azione cattolica beh non si erano mai messi a un tavolo a parlare di di questi temi è servito un soggetto esterno che non fosse dentro a tutte le loro questioni per aiutarli allora il corso animatori ha di bello che sono persone da tutta l'Italia cioè facciamo questa cioè non è solo un'iniziativa Masci ma è di tutti promossa con il Masci ehm su questo vorrei un flash sul percorso sul sinodo sulla sinodalità e sulla sinodalità pensando al Masci e a tutti noi nei prossimi anni questo è un percorso che dobbiamo vivere a pieno per me la sinodalità è la risposta alla nostra preghiera e quindi attenzione cioè se la tua domanda era perché questo leto lo vedo bene però attenzione che fratelli tutti cento uno parlando del samaritano e che non è stato salvato no? dal prete che passava perché era eh dice attenzione ad uscire da una dinamica che aiutiamo solo i soci si intitola uscire da un mondo di soci quindi attenzione eh credo che questo sia molto importante il io finito il sinodo sull'Amazzone hanno dato su TV duemila un film proprio perché era appena finito il sinodo no scusate sì il sinodo sull'Amazzone un film bellissimo in Brasile non ricordo il titolo io veramente avevo no a vedere queste popolazioni il figlio venduto dal padre perché per la terra e poi è arrivata la notizia che il Papa aveva detto proprio in quel giorno che il sinodo successivo sarebbe stato sulla sinodalità io l'ho vista come un dono cioè quando io mi sento e fatico mi sento perché appunto siamo persone che vorremmo cambiarlo questo mondo questo difetto ce l'abbiamo e e di fatico a stare nell'umiltà di sapere che facciamo un pezzetto e che poi appunto eh questo seme crescerà quando noi dormiamo cresce ehm ecco io mi sento che la sinodalità è la l'avere ascoltato la mia preghiera cioè io sto lì e dico beh vabbè oggi però dei senza titta a Roma se ne sta occupando Sant'Egilio però di questo se ne sta occupando questo di questo questa cioè ma è una bellezza questa questa diversità dei carismi nella chiesa dobbiamo soltanto come un concerto cercare no di armonizzarla perché i giovani chiedono da noi appunto un cambiamento il quindi ferite e feritoie vabbè frate fratele fedele grazie grazie tante per me è tutto un mistero la vita eh mio fratello era molto più grande di me quando io avevo sei anni mi ha detto che entrava in compagnia del Gesù quindi rispetto alle mie sorelle che hanno sedici anni più di me è chiaro io non ho avuto una una vita con lui quindi eh la ferita che ho è diversa perché io da una vita ero la rompiscatole su questi temi dagli scout da vent'anni di Foxiv quindi per me quello che sto vivendo al di eh come ferita è sentire che è un grido no che cioè sento questa cosa della sua audacia del fatto che quando io avevo ammessa e c'è no ma come sarà capitato anche a voi con persone che no eh quindi quando si spezza c'è il sangue penso al dono all'audacia al dono totale della vita quello che oggi Magatti diceva perdere la vita per ritrovarlo è chiaro che questa è una cosa che tutti non lo senti di più eh già in una persona predisposta diciamo e e questa cosa va gestita non è facile perché non bisogna diventare persone frustrate che e che poi e quindi mh questo insomma ce l'abbiamo tutti eh però ecco oggi voi per me rappresentate un qualcosa che le mie piccole mani come diceva Tagore questa eh troppo grande per accoglierle e nel libro del Cardinal Martini notti e giorni del cuore su Maria oggi voi siete veramente un giorno del cuore nel senso che anche noi facciamo le nostre fatiche ecco è come se ci stiamo confermando a vicenda di questo percorso generativo mi sapere il cuore a vedere un mascio un'associazione così cioè non sono così le altre realtà che si interrogano come voi quindi veramente eh grazie il mh sull'agire e le le maniche arrotolate assolutamente il principio di realtà è fondamentale eh Leonardo e in questo vi chiedo insomma in questo momento molto di più il principio di realtà che portate avanti voi però nel sistema diciamo di impatto e di cambiamento è anche quello di raccogliere le firme e anche quello di realizzare eventi e di registrarli sul sito perché se li fate ma non li registrate non c'è questa sorta no? di impatto di di chiesa però poi va molto al di là quello che voi fate però ecco questi poi sono anche i momenti che ci organizziamo cioè noi ci siamo apposta per organizzare il cambiamento in questi momenti il sto chiudendo quindi questo l'abbiamo già fatto per cerco di non perdermi altri pezzi comunità laudato sì e circoli è facilissima la risposta le comunità laudato sì sono nate prima del movimento laudato sì noi siamo venuti dopo in Italia le comunità laudato sì sono fondate da Carlo Petrini quindi uno che si definisce un agnostico e un vesco Monsignor Pompili di Rieti sono quindi proprio il desiderio di mettere insieme gli uomini di buona volontà nella costruzione di questa casa comune che è una cosa bellissima uscire dal dal sagrato essere aperti eccetera i circoli hanno più una dimensione anche di preghiera eccetera quindi molto dipende da questo secondo me è proprio il tempo che ognuno deve fare quello che si sente quello che può è ottimo fare le cose ecumeniche con i non credenti è però importante anche tra noi avere dei momenti di preghiera per farci forza però ecco c'è totale comunione la tua domanda ci spinge che sarebbe bello fare una cosa insieme anche per riuscire di più a testimoniarla con Don Pompili ci sentiamo ma non abbiamo avuto ancora tempo però il messaggio di uscire è fondamentale va bene io scusate perché ne avete dette tantissime quindi ho cercato di ricordarmi le tutte però veramente vi ringrazio tantissimo io diversamente alta mi alzo non sono brava come Cecilia io non ho appuntato tutte le cose con i nomi come ha fatto lei io sono un po' più disordinata ma perché non ho meno ma manco io intanto voglio cominciare ecco il nome di Luigi ce l'ho non so dov'è Luigi che ha fatto legnano ciao Luigi allora intanto molti molti fanno la stessa tua domanda dicono le stesse cose che tu hai detto l'accusa maggiore è quella voi siete praticamente alimentate questa cosa vabbè me lo dicono gli altri alimentate e voi vi prestate a questo gioco no? non è così perché solamente chi vede e chi tocca con mano si rende conto di quello che c'è ma realmente vedere le ferite e curare quelle ferite il nostro non è un lavoro quindi noi non siamo stati da nessuno se non da lui e lui è quello che ci dice cosa dobbiamo fare il nostro è un servizio completamente gratuito anzi non solo gratuito molto spesso mettiamo le mani in tasca per poter aiutare la gente ultimi che sono arrivati l'altro giorno abbiamo comprato erano centocinquanta abbiamo comprato trecento succhi di frutta trecento merendine e i barnolini e gli omogenizzati questo l'abbiamo fatto noi la cosa grande sai qual è è che siamo riusciti ad organizzarci noi abbiamo fatto anche il farmaco sospeso oltre il pannolino oltre il corredino sospeso e tutte le altre cose molti arrivano con delle malattie hanno bisogno di antibiotici gli antibiotici costano non hanno le ricette noi abbiamo questo piccolo gruzzoletto in una farmacia e andiamo a prendere i farmaci per aiutarli basta inventarsi noi siamo quelli che si inventano le cose siamo quelli che abbiamo questa capacità nuova diversa e la sfruttiamo questa la sfruttiamo quella è un'altra cosa quella è un'altra cosa noi non abbiamo noi siamo ripeto siamo dei volontari che non apparteniamo siamo masci aggesci cvx moci non apparteniamo a una unica identità siamo tanti volontari che si prestano ad aiutare il prossimo semplicemente questo non è che facciamo quindi non abbiamo il banco alimentare non siamo associazione ci hanno detto di costituire un'associazione non abbiamo voluto perché se noi ci costituiamo associazione perdiamo la nostra libertà e noi dobbiamo dire le cose che non funzionano a tutti se qualcuno mi viene a dire vedi che avete detto una cosa sbagliata io posso dire forse le cose sbagliate le stai facendo tu che sei istituzione io l'unico io devo dare conto solamente al mio unico eccellenza e lo dico sempre a tutti io e tutti i nostri volontari la libertà nel poter fare le cose nel poter aiutare la gente senza essere avere vincoli da nessuno allora io voglio tornare al seme che se non muore quando il seme muore poi cresce il grano cioè il seme giustamente non muore si rigenera no? si rigenera ed è quello che fanno tutti i volontari che vengono da fuori tutti i ragazzi scout e lo scout che sono venuti alla fine del servizio io ho sempre detto abbiamo sempre detto ragazzi adesso questo seme che voi avete raccolto qua lo dovete portare nelle vostre città cosa che è accaduta sapete quante belle cose hanno fatto tutti i ragazzi tornando nelle loro città si sono impegnati hanno invitato prefetti comuni hanno invitato tutti hanno invitato anche noi per andare a parlare dell'esperienza no? ed è questo il seme perché questo poi si rigenera nella loro e hanno fatto tante opere anche dentro delle strutture quindi questo è quello che facciamo che che fanno i ragazzi che sono più bravi di noi sicuramente dobbiamo rigenerare il nostro cuore questo sicuramente sì il cuore non può essere ehm fermo si ferma quando vuole lui però finché batte dobbiamo continuare ad alimentarlo con l'amore con l'amore e con l'incontro io non riesco a uscire di strada e non fermarmi sapete che cosa è successo l'altra volta una cosa simpaticissima per me ma per gli altri un po' meno io quando cammino mi fermano tutti i miei amici e c'è anche un ragazzo tossicodipendente che non si è voluto curare non vuole andare da nessuna parte e allora mentre cammino lui si alza e mi dice ciao ciao Basilio come stai come mi vedi tutto arrabbiato ti vedo perché volevo dire forse se ti fare ti vedo si è arrabbiato ha cominciato a gridarmi ma sul corso garibaldi centro di reggio gridando ad alta voce ma vattene via brutta dracca ma ma gridando la gente che mi guardava io zitta in silenzio ho continuato la mia strada e ho detto grazie signore per queste gecolatorie grazie ecco cioè queste sono le benedizioni che mi ha mandato lui ci voglio dire anche perché chi ha da fare col povero ragazzi non possiamo pretendere di cambiarla in modo nostro dobbiamo entrare noi nel loro mondo nella loro sfera per poterla aiutare altrimenti è una presunzione diciamo poi tutte le cose banali eccetera eccetera il povero è una persona è meraviglioso è meraviglioso il povero io ho provato a fare la povera ragazzi mi sono mi sono messa in strada vestendomi da povera e la cosa triste è che nessuno mi conosceva nessuno mi dava confidenza immagino le persone che sono là buttate in mezzo alla strada e nessuno gli dà manco centesimo provateci proviamoci dice ma tu sei sì vabbè sono un po' così però provare per capire perché noi parliamo l'esperienza tu esperimenti una situazione per poter aiutare chi ha bisogno se tu non lo sperimenti dici vabbè io gli porto questo da mangiare e lui non lo mangia perché non lo mangia perché non è abituato perché si sente male se gli fanno la pasta loro mangiano un riso e allora dobbiamo capire dobbiamo aiutare anche l'istituzione a capire cosa che abbiamo fatto negli anni quindi rigeneriamo questo cuore abbiamo bisogno il cuore si si dilata ogni tanto è vero fa anche soffrire ogni tanto ti ricoverano ogni tanto per questo però ben venga cioè ben venga perché se tu se il Signore ti ha segnato a quel momento vuol dire che è giunta l'ora di andarla a raggiungere ma con la gioia nel cuore io ho avuto un infarto stavo morendo ma io non mi sono preoccupata ve lo dico sapete perché perché un infarto mamma mia sì è vero ho avuto sono stata malissima stavo morendo però quando mi hanno portato in ospedale io la prima cosa che mi sono fatta che ho fatto mi sono preso il rosario e recitavo le preghiere ogni tanto Nave Maria il Salmo il Signore il mio apostore non manco di nulla e facevo Signore grazie grazie per tutti i doni che mi hai dato grazie grazie che mi hai concesso la possibilità di aiutare tanta gente grazie per la famiglia grazie per i miei figli grazie 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 quando sono arrivata mi hanno detto hai un infarto esteso e ho detto e allora adesso provvediamo subito ecco la serenità perché in quel momento forse un altro più in là non sarò così pronta ma io ero pronta ed ero felice di andare no è una cosa che non racconto a tutti ragazzi scusate però mi sono mi sono fatta prendere un po' dal cuore ecco va bene e allora un'altra una delle ultime cose che voglio dire perché è importante tutto quello che facciamo con le cose che facciamo l'abbiamo ascoltato in questi giorni no abbiamo ascoltato ciò che le nostre comunità dovrebbero fare no ah scusate ciò che le nostre comunità dovrebbero fare essere testimoni coerenti essere propositivi dimostrare la gioia nel servire io non io non cioè non mi arrabbio mai quando servo qualcuno mi arrabbio con l'istituzione magari ma col servizio mai diventiamo cittadini attivi sapete quando quando denunciamo all'istituzione le cose che non funzionano perché le cose che non funzionano vanno denunciate noi l'abbiamo fatto mandando foto scrivendo che cosa bisogna fare che cosa manca che cosa non manca ma la cosa più bella è che facciamo semplicemente tutti noi noi andiamo a messa ascoltiamo il Vangelo traduciamo il Vangelo si traduce che cosa dobbiamo fare traduciamo il Vangelo facciamo altro che dobbiamo fare lo traduciamo questo la messa comincia quando usciamo dalla messa non quando siamo là dentro poi usciamo beh ora sono tutto a posto ho fatto a dire ma dopo che abbiamo incontrato lui e lo abbiamo incontrato e siamo diventati lui per un momento noi possiamo fare la fine del mondo quando usciamo ti fermi se c'è un bisogno se non c'è se ti chiamano se fai cioè vabbè non vi dico notte e giorno sono sempre però è bello è bello è bello perché è lui perché è lui che ce lo dice di fare e la sera quando vai a letto e sei riuscito a risolvere un problema che magari era irrisolvibile torni a casa che vuoi raccontare a tutti cantando con leggione il cuore per dire guardate è successa questa cosa bella oggi sembrava una cosa che non potevamo risolvere eppure ce l'abbiamo fatto e arriva a casa e quando la sera vai a letto dice signore grazie per avermi fatto perché io ti ho incontrato mi ha dato questa possibilità io sono una privilegiata noi siamo dei privilegiati ragazzi non ci rendiamo conto ragazzi noi siamo dei privilegiati veramente perché noi lo incontriamo spesso e lo incontriamo nel volto del sofferente ragazzi grazie e buona serata